Grazie a tutti. Abbiamo esaurito gli interventi di illustrazione e l'intervento della Giunta che ha anche risposto all'interrogazione, pertanto adesso apriamo la discussione generale. Prego i colleghi che intendono intervenire di prenotarsi. Ricordo che discutendo due mozioni congiuntamente sono possibili due interventi per gruppo, fino a due interventi per gruppo. Invito per tanti colleghi che intendono intervenire di prenotarsi. Lasciamo aperto per un po' le prenotazioni in attesa che tutti i consiglieri raggiungano l'Aula per la ripresa dei lavori. Ha chiesto di intervenire la consigliere Santisi, in saita, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Non pensavo di dover intervenire, però ho sentito questa mattina risaltare forte e chiara la parola libertà. Libertà per tutto. Libertà sotto tutti gli aspetti. Anche perché facendo riferimento ai fatti di Parigi si è alzato forte questo grido di libertà. Ma è la libertà che diventa dogma della satira? O è la libertà, come qui stamattina risuonava, di scelta di stili di vita? La libertà di scelte con chi stare? Benissimo. Nessuno credo in una democrazia che abbia mai vietato questa libertà. Altro è scegliere ed avere la libertà propria di fare alcune cose che siano comunque sempre nell'ottica delle normative e delle leggi vigenti. Altro invece è riconoscere ufficialmente alcune scelte. C'è una certa differenza. Mi domando, la libertà di satira fino ad essere anche disdicevole, diventare vilipendio, non sempre può essere accettata. E quindi hanno fatto bene a Parigi ad alzare forte il grido tantissime persone perché ho orrore di chi uccide e ho pietà umana per chi viene ucciso. Però, quando quella stessa satira è stata forte e dissacrante sulla religione cattolica, sulla Santissima Trinità, sul Papa, nessuno si è scandalizzato. Dunque, nel sentire comune c'è differenza di religione. Non si deve scherzare con Mahometto, si può scherzare con Cristo. Allora, questa mattina il discorso era delle coppie omosessuali o degli incontri della cultura che si sta aprendo, per esempio, con una riforma che imbozza al Parlamento e che mi fa molto pensare sull'ideologia del gender. Quindi in futuro vedremo quanti e come assortimento di persone avremo. Resta un fatto. Da un punto di vista biologico il DNA dice che c'è un uomo e una donna. Io non mi stupisco, non mi scandalizzo se qualcuno sceglie una coppia diversa. E, tra l'altro, ho avuto dei colleghi insegnanti, grande amicizia, persone splendide, squisite, omosessuali, ma non hanno mai fatto carnavelate in giro per affermare un diritto così, come dire, solo di grande folklore e non invece di dignità di vita. Ma anche vedevo che nella relazio post-diceptazione il Papa e quindi i Cardinali hanno riflettuto molto sulla famiglia, che oggi è molto ma molto in crisi, soprattutto per il lavoro, per l'individualismo un po' esasperato che sta venendo fuori e forse anche per la solitudine con cui vive le proprie problematiche. Ogni incontinente ha modalità di matrimoni diversi. Per esempio, c'è riconosciuta la poligamia in tanti paesi dell'Africa. Matrimoni visti, convivenza. Ma questo non fa scandalo. Io però mi dico, se tanto abbiamo oggi osannato la libertà, io avrò diritto di credere nella famiglia uomo-donna e di avere quindi un partner che sia geneticamente uomo. E questo nessuno me lo può impedire. Allora, se dobbiamo osannare la libertà, perché c'è tanta ribellione contro un convegno che parla della famiglia? A questo bisogna mettere il bavaio? Che problemi fa? Qual è questa tutta starabbia che ha fatto sorgere? E dicevo che in questo documento ci sono anche spunti per l'accoglienza degli omosessuali e per i bambini che vivono con coppie dello stesso sesso. Quindi la Chiesa sta cercando di comprendere e di capire. Ma io chiedo ed esigo per me la stessa libertà che gli altri chiedono per situazioni diverse. E intanto che sono a questo punto, vorrei Presidente, se me lo permette, dove l'ho messo? Volevo dirgli che oggi, e sono sorti tantissimi, io sono. Allora io sono Asia Bibi, la mamma pakistana con quattro figli che sarà impiccata perché è cristiana. Io sono i 44 mila e passa di persone che sono stati uccisi perché cristiane. E questi sono i numeri limitati delle persone riconosciute e identificate. Ci sono le migliaia di altre vittime che non conosciamo. Io sono, come ho scritto qui, Asia Bibi. Grazie. Grazie, Consigliere Santisi. Io mi auguro, naturalmente, sono certo che l'auspicio sia condiviso da tutti, che Asia Bibi non venga, che la condanna a cui è stata sottoposta non venga messa in atto e che si possa fare di tutto perché questo atto barbaro non si realizzi. Allora, al momento si sono iscritti per la discussione generale i consiglieri Ambrosoli, Pedrazzini, Castellano, Romeo, Carugo, Nanni, Decorato e Malvezzi, a cui darò la parola in questo ordine, durante invito i colleghi che intendono ulteriori... Ah, poi ancora Galli e Baldini. Invito i colleghi che intendono iscriversi di farlo nel corso dell'intervento del consigliere Ambrosoli, a cui adesso darò la parola, dopodiché chiuderò le iscrizioni per la discussione di queste due mozioni. La parola al consigliere Ambrosoli. Grazie, signor Presidente. Grazie, signore e signori consiglieri. Personalmente credo nella centralità della famiglia e condivido pienamente ciò che dice a riguardo alla nostra Costituzione. Una centralità di carattere sociale. Lo dico perché lo credo e lo dico per non cedere, anzi per non cadere nel tranello iporocrita e dialettico, secondo il quale la critica al convegno del 17 prossimo venturo non può che essere mossa da chi è nemico della famiglia. Credo nella famiglia e utilizzo e faccio mie queste parole. Io ritengo che la famiglia vada difesa perché è veramente quella che sostiene la società in maniera stabile e permanente e per il ruolo fondamentale che essa esercita. Però non è male, in luogo di rapporti omosessuali occasionali, che due persone abbiano una certa stabilità e che quindi in questo senso lo Stato potrebbe anche favorirli. Non condivido le posizioni di chi nella Chiesa se la prende con le unioni civili. Io sostengo il matrimonio tradizionale con tutti i suoi valori e sono convinto che non vada messo in discussione. Se poi alcune persone di sesso diverso oppure anche dello stesso sesto ambiscono a formare, a firmare anzi un patto per dare una certa stabilità alla loro copia, perché vogliamo assolutamente che non sia, sono parole dell'arcivescovo Carlo Maria Martini. Parole neanche tanto lontano nei tempi, nelle quali mi identifico. Come correttamente osservato questa mattina dal consigliere del Gobus, non sbaglio citando altro arcivescovo di Milano, la scelta dei soggetti invitati e l'idea di dare ad essi il microfono o il megafono marchiato Expo ha suscitato notevoli polemiche. Giuste? Secondo me in parte sì. Sbagliate? Devo dire che non importa. Ciò che rileva è che sono perfettamente prevedibili ed evitabili. E in quanto prevedibili sono state necessariamente volute da chi in Regione ha voluto alcuni di questi relatori, da chi in Regione ha voluto il marchio Expo. Allora dobbiamo chiederci perché? Perché abbiamo voluto inquinare Expo, la sua immagine, l'aspettativa del suo buon nome? Perché abbiamo voluto sentirci dire dal Presidente del Bureau dell'Esposizione Internazionale che si è abusato del marchio? Perché lo stesso Presidente ci ha dovuto segnalare di centinaia di lettere che riceve di protesta da tutto il mondo? Tutto perfettamente prevedibile. Tutto una figuraccia internazionale che nella prevedibile dinamica semplificatoria dei media porta molti oggi a pensare che Regione Lombardia supporti non la famiglia ma posizioni che giudicano, lontano dalla scienza, l'omosessualità una patologia. Certo, una figuraccia che ha anche un rovescio utile della medaglia. Nessuna reale politica a favore della famiglia viene promossa in Regione Lombardia. Nessun aiuto realmente rivolto ad aiutare copie giovani a formare una famiglia viene posto in essere. Nessun modello operativo rivolto ad agevorare la Costituzione e l'accesso agli asili nido per consentire alle persone di vivere in termini di compatibilità l'esperienza genitoriale e quella lavorativa viene posto in essere. Expo come marchio lì con il suo rilievo internazionale è oggi utilizzato in questa occasione come straordinaria arma di distrazione di massa. Distrazione rispetto al vuoto pneumatico delle politiche che questa giunta pone in essere, anzi non pone in essere, a favore della famiglia. Allora sì, tutto sembra un pochettino una grande ipocrisia. Una grande ipocrisia giocata con una certa, e anche con una certa cattiveria se vogliamo, nei confronti di chi è oggetto delle azioni di rigetto in ragione delle proprie scelte sessuali. È una figuraccia che potevamo evitare, o forse è una figuraccia che ancora possiamo evitare, poiché certamente siamo perfettamente in tempo per permettere che questo convegno si tenga, che questo convegno sostenga le tesi che nello stesso saranno portate avanti, ma di farlo senza l'assimilazione del marchio Expo, che con quanto trattato in quel convegno nulla ha a che vedere. L'invito è arrivato dal Commissario straordinario per Expo Giuseppe Sala, l'invito è arrivato dal Bureau internazionale. Abbiamo sbagliato, ma per severare sarebbe diabolico. Grazie, ha chiesto di te vedere il Consigliere Pedrazzini, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Beh, io direi che a questo punto non dovremmo fare più nessun convegno. Se noi dovessimo proibire patrocini di convegni sulla possibilità dove confrontarsi su temi i più diversi, credo che buona parte dei convegni che vengono proposti da quella parte dell'Aula dovrebbero essere tutti proibiti. Non è pensabile avere posizioni unilaterali. Viene meno il pluralismo delle opinioni che Regione Lombardia deve garantire in questo caso. Ora, i convegni non si fanno con il patrocinio di Regione Lombardia solo se vi è la presenza di Pedrazzini insieme a quella di Alfieri. Ma possono esserci dei convegni che sono patrocinati quando vi è la presenza di Pedrazzini o quando vi è la presenza di Alfieri. Indipendentemente da essere presenti due tesi differenti che devono poi essere confrontate e discusse insieme. Con queste posizioni, che avete ribadito questa mattina anche nella mozione che avete presentato, si rischia di assumere atteggiamenti, io direi quasi fascisti, settari. Noi accettiamo tutti e lo ribadiamo con forza. Abbiamo rispetto per tutti, anche per le diversità. Ma non dimentichiamo che siamo in un sistema dove la famiglia è messa in primo piano nella nostra società. E lo ricordava bene la mozione presentata dal collega Del Gobbo, dove ci sono riferimenti importanti nella Costituzione, dove vi è addirittura un riferimento nello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, nella dichiarazione dei diritti universali e dei diritti dell'uomo. Con più o meno forza, la famiglia naturale rimane un perno centrale della nostra società. C'è chi lo esprime con maggiore forza, facendo riferimento a queste considerazioni, e c'è chi invece lo fa con meno enfasi. Ma il patrocinio dato da Regione Lombardia favorisce pertanto il confronto delle idee e lo rimarca con molta chiarezza. Ribadito poi che le inclinazioni e gli orientamenti sessuali non sono oggetto del dibattito del convegno e quindi non vi è nessuna discriminazione in riferimento. È il convegno quindi che solleva nella pubblica opinione il dubbio? Oppure siete voi che sollevate il dubbio di strumentalizzazioni? Per questo noi ci chiediamo come il Presidente Maroni avrebbe potuto non dare il patrocinio a questa iniziativa. Pertanto rimaniamo d'accordo a quanto fatto, a quanto previsto dalla Giunta e affinché il patrocinio rimanga per l'iniziativa in corso il 17. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire la Consigliere Castellano, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io vorrei chiedere a quest'Aula su chi non è d'accordo sul programma Difendere la Famiglia. Noi siamo tutti d'accordo, è un obiettivo di tutti. È probabilmente una delle poche idee che condividiamo da questa e dall'altra parte, dall'altra e da questa parte. Ma il problema non è difendere la famiglia, non ci nascondiamo dietro un dito. Il problema è quando si scaglia la famiglia nella sua sacralità in cui tutti crediamo contro soggetti, persone e comunità che declinano i loro affetti, la loro sessualità in maniera differente da quella della famiglia cosiddetta tradizionale. Allora il punto è questo. Il paradigma che la maggioranza di questo Consiglio difende come un dogma istituzionale non è. Questo senza nulla togliere alla famiglia, come ben diceva il Consigliere Ambrosoli, che noi tutti difendiamo. Allora questo convegno sulla difesa della famiglia che la Regione Lombardia ha deciso di organizzare, non di patrocinare, ha il sapore di impulso razionale, davvero di impostazione oscurantista. Ma perché? Perché in questa Milano multinazionale, in questa Lombardia aperta al mondo, noi ospitiamo persone che pensano che l'omosessualità sia una malattia, che gli omosessuali vadano curati e magari anche rieducati. Allora il punto è questo, che questo qualcuno venga ospitato a parlare in una organizzazione istituzionale da parte di Regione Lombardia, per di più con il marchio planetario di Expo. Allora io dico, è possibile che noi pensiamo che ci sia una sola famiglia che merita questo nome? Stiamo ancora a questo. Io voglio ricordare che sono decenni che le organizzazioni mondiali, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità alle Nazioni Unite, sostengono le battaglie per i diritti degli omosessuali in tutto il mondo. Prego un'assistenza d'anno di portare un bicchier d'acqua alla consigliere Castellano, per favore. Grazie. Scusatemi, allora il punto è un punto di diritti civili. Cioè oggi c'è un contrasto tra questo convegno e il respiro di Expo. Ed è una figuraccia a cui stiamo esponendo il nostro Paese, in tutto il mondo. Il nostro Paese si prepara ad accogliere milioni di visitatori, alcuni dei quali eterosessuali, altri omosessuali, alcuni sposati, altri no, per respirare uno spirito universale. E noi dobbiamo mortificarlo in questo modo. Scusa la consigliere Castellano, se preferisce un attimo di sospensione, non voglio sembrare mancanze di riguardo. No, no, no. Finisco soltanto dicendo che quello che è organizzato oggi in Regione Lombardia evidenzia una lacuna culturale. E quello è il punto. Evidenzia non soltanto il mancato rispetto di diritti, ma una lacuna culturale importante. Io vi ricordo che l'Argentina, il Belgio, il Canada, la Danimarca, l'Islanda, la Norvegia, città del Messico, capitale di un Paese cattolico, autorizzano i matrimoni omosessuali. Allora, in questo momento la materia del contendere non è difendere la famiglia, che tutti difendiamo, ma difendere i diritti umani di altre categorie, non ospitando delle associazioni che chiaramente questi diritti confinano in un ambito di malattia. Questo, oltre a essere contro legge e contro la Costituzione, è figlio di un regime oscurantista. Io vorrei soltanto ricordarvi che Martel ci racconta che la trasformazione dello stile di vita, l'individualismo sessuale, la ridefinizione del matrimonio, l'universalizzazione dei diritti umani, la potenza dell'istruzione, sono guardati attraverso il prisma della questione omosessuale. Allora, ancora una volta, la Regione Lombardia ha perso l'occasione di dare un respiro internazionale a un territorio che internazionale è. Ancora una volta, dopo l'eterologa, dopo tanti altri esempi che abbiamo avuto, ci stiamo caratterizzando come una Regione oscurantista. Quindi ribadiamo con forza, diceva bene il Consigliere Ambrosoli, ribadiamo con forza la richiesta di togliere il marchio di Expo e di revocare l'organizzazione del convegno. Non perché siamo contro la famiglia, ma perché siamo contro chi limita e offende i diritti umani. Grazie. Grazie. Io chiudo le prenotazioni. Si sono iscritti, avranno la parola in questo ordine, i consiglieri Romeo, Carugo, Nanni, Decorato, Galli, Baldini, Gallera e Malvezzi. La parola al consigliere Romeo. Sì, grazie Presidente. Su questo convegno devo dire che ne sono già state dette tante e purtroppo vedo che la disinformazione continua in quest'Aula anche nella giornata di oggi. Nonostante tutti i chiarimenti, tutte le questioni, guardi Assessore, non si faccia condizionare dalle sirene dell'opposizione. Non solo, Assessore, la Giunta, non solo non dovete sconvocare il convegno, ma anzi dovete organizzarne degli altri. Questo convegno è l'inizio, infatti, di una serie di iniziative che dovranno portare poi alla festa della famiglia tradizionale, naturale, così come quest'Aula ha votato nell'ordine del giorno il primo luglio scorso. Quindi avanti così. Non vi preoccupate delle figure internazionali, figuracce. Io da quando sono dieci giorni che ricevo testati di stima ovunque. Ci sono un sacco di persone in tutto il Paese che vorrebbero venire al nostro convegno. Tant'è vero che abbiamo cercato comunque una sala più grande rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali. Anzi, quanto è accaduto, bisognerebbe, come ho detto i giornalisti, ringrazio anche l'opposizione per la pubblicità che ci ha fatto, che ha messo in evidenza che nel nostro Paese ci sono due regioni, la Lombardia e il Veneto, che sono le uniche due regioni che stanno e che vogliono difendere il concetto di famiglia. Perché? Perché purtroppo la famiglia oggi viene bistrattata. Nessuno ne parla, non è sostenuta né da un punto di vista fiscale né da un punto di vista legislativo. Invece Regione Lombardia, e noi di questo vogliamo assolutamente parlare al convegno, invece ha creato, ha fatto azioni governative che vanno proprio nella direzione delle famiglie. Io voglio ricordare i 39 milioni di euro messi a disposizione per l'emergenza affitti, i 70 milioni di euro per l'emergenza legata al sociale, minori, disabili, anziani, il provvedimento sui coniugi separati, la questione legata al fattore famiglia, i fondi Nasco e Cresco, tutte iniziative che sono caratteristiche e peculiarità di Regione Lombardia, che non troviamo in atti di governo né a livello nazionale né tantomeno in altre regioni amministrate da altri colori politici. Noi vogliamo parlare di questo al convegno, ribadendo che per queste motivazioni la famiglia è una specie da proteggere. Bisognerebbe parlarne di più e bisognerebbe anche parlare, ed è questo anche l'obiettivo e lo scopo del convegno, di quelle che possono essere ulteriori provvedimenti governativi da parte di Regione che vanno assolutamente in questa direzione. E invece tutte le volte che, come si può dire, si parla e si organizza qualcosa sulla famiglia, perché è stato così anche quando abbiamo presentato la nostra mozione sul sostegno alla famiglia tradizionale, e anche lì, senza che nella mozione vi fosse alcun accetto a nulla, ci fu l'accusa e le polemiche sull'omofobia, polemiche sui giornali, anche lì che sono durate una quindicina di giorni. Lo stesso è avvenuto in Veneto, quindi sono solamente scuse e disinformazione quelli che vengono messe in atto, sia dalle minoranze che ovviamente da una certa parte di stampa, ma non dimentichiamo anche delle cosiddette associazioni, come si può dire, che così dicono loro di voler difendere i diritti degli omosessuali. Sembra che tutti questi attacchi quasi mettano in evidenza, quasi ci fosse un disegno, di voler a tutti i costi distruggere il concetto di famiglia, probabilmente distruggere quelli che sono le radici del nostro Paese e magari consegnare il nostro Paese nelle mani di stranieri e clandestini. E tra l'altro mi pongo anche una domanda, perché se vogliamo parlare, ma noi non ne parleremo al convegno del 17, ma qualcuno ha fatto accenno al fatto che sulla questione dei diritti degli omosessuali tutti questi attacchi, tutto questo clamore, tutta questa baccana, questa levata di scudi nei confronti di un'associazione o di alcune associazioni che hanno l'obiettivo di accogliere e di rispettare le persone che vivono con sofferenza la propria identità sessuale e che non si propongono affatto di curarle, ma di sostenerle alla ricerca di sé. Ecco, tutta questa levata di scudi nei confronti di associazioni che fanno questo lavoro e però un assoluto silenzio nei confronti di altre culture che si affacciano nel nostro Paese che addirittura considerano l'omosessualità un reato. Ecco, nei confronti di queste culture silenzio assoluto. Nessuno osa dire nulla nei confronti di alcune culture, per esempio, che propongono nei loro rispettivi stati come Arabia Saudita, Iran, Nigeria, Mauritania, Pakistan, Sudan, Somalia, Yemen e via dicendo, addirittura la pena di morte nei confronti degli omosessuali. Mentre altri come il Baren, il Qatar, l'Algeria, le Maldive, che invece addirittura propongono anni di cacere nei confronti delle persone omosessuali. Ecco qui silenzio assoluto. Ci sarebbe piaciuto magari, o ci piacerebbe vedere ogni tanto, sentire ogni tanto un po' di clamore, ma mi sembra che nei confronti di queste culture ci sia un po' una sorta di paura, di sottomissione alla base di questo silenzio incredibile. Forse questo dovrebbe far riflettere in tanti. Anche perché noi tante volte ci vien da pensare che forse abbia davvero ragione Antonio Socci che su un quotidiano ha scritto di recente che i cattoprogressisti sono così, dialogano con tutti, con gli islamici, con gli atei, con i comunisti, con i mangiapreti e con i miscredenti, ma non con i cattolici e con i cristiani. Probabilmente ha ragione e queste ultime due settimane mi sembra di avere un po' intravisto e di leggere questo pensiero e di dare concretezza a quello che è stato detto. Forse, oggi come oggi, invece, quello che dovrebbe fare scandalo, e noi lo diciamo, sono invece quelle associazioni che sostengono la cosiddetta teoria gender, che la collega Saita ha messo in evidenza prima, che come ha scritto e detto l'ateo, l'anarchico, il progressista di sinistra, uno dei pochi, a mio giudizio, che ha gli attributi, un certo Michel Onfray, ossia che la teoria del gender non è altro che un nuovo puritanesimo, che vuole un essere umano nuovo, senza sesso. Forse questo dovrebbe creare più scandalo rispetto invece ad associazioni che vogliono aiutare, le persone che chiedono aiuto. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Carugo, ne ha facoltà. Grazie Presidente, ma come è stato pacato Presidente Romeo oggi, è stato molto, molto soft. Ma mi pare, la regione Lombardia è sempre stata una regione estremamente di vedute ampie, molto laica, come qualcuno dice, ma mi sembra che recentemente, non so il periodo, questo stesso Consiglio regionale aveva dato un patrocino, una manifestazione, no, alla marcia, marcia gay, una manifestazione, vi ricordate, c'è stata, e io con le bambine non sono molto esperte, però, ancora non sono molto esperte, però la regione Lombardia aveva dato persino un patrocino. E questo fu oggetto anche qui di discussione, e anzi, visto in qualche modo anche come segno, come segno di apertura. A me non piaceva, l'ho anche dichiarato, però così è stato fatto. Io però, rispetto anche a quel che diceva il Presidente Ambrosoli, che mi spiace che non sia in aula, lui parlava di azione di rigetto. Farò un po' di outing. Io probabilmente sono, no, la mia storia è abbastanza, però probabilmente mi sento un po' di essere un po' un pirla. si dice alle nostre parti, perché io ho una famiglia, una moglie sola, ce l'ho, grazie a Dio, dal 93, ho sei figli, quindi non sono neanche un atomo, sono proprio meno di un atomo nella società italiana, probabilmente sono diventato un oggetto misterioso da studiare, perché già chi ha una famiglia in Italia è diventato cosa rara. Se poi c'è anche dei figli, ti guardano ormai come un qualcosa di strano, se poi ne hai più di cinque, giusto, ne hai sei, o sei un maniaco sessuale, o sei strano. Io la metto sul ridere, ma questa purtroppo è la verità, perché ogni volta che parliamo di famiglia siamo qui ancora a menarcela. Ma mi sembra impossibile, ma se io dovessi raccontare quelle che ho ascoltato oggi qui in aula ai miei genitori che sono nati nel 28, che hanno fatto una vita normalissima, che per loro la cellula della società era la famiglia, lui, lei, un figlio, hanno avuto solo un figlio, per voi per fortuna, per loro per fortuna. Però è cambiato realmente il mondo, io non c'ho nulla contro i gay, assolutamente. Poi il buon Dio vedrà, per l'amor di Dio, siamo tutti figli di Dio, ma chi se ne frega. Però ragazzi, veramente, è una roba incredibile, ma come si può che ogni volta che si fa qualcosa a favore della famiglia, ripeto, famiglia naturale, siamo qui ancora a menarcela, a dire ma no, non c'è solo la famiglia, ma ci sono le famiglie, ci sono le coppie, ci sono, non si capisce poi, chissà che cosa, lui, lei, lei, lui, fa un po' ci metteremo anche i gattini, ma chi se ne frega, a noi ci piace la famiglia, la famiglia come i miei genitori mi hanno insegnata, lui, lei, i nostri figli, ma basta, non possiamo fare un convegno qui in Regione Lombardia sulla famiglia. La prossima volta vincete voi le elezioni, mi spiace, l'avete ancora perse, e non è colpa nostra, e finché saremo qua, noi difenderemo questi principi, questi valori, perché noi in questo ci crediamo, e milioni di cittadini ci hanno votato, e andiamo avanti così, Assessore Cappellini, giusto per chiudere, ma io le faccio anche a lei complimenti come promotore dell'iniziativa, i complimenti perché non solo come qualche suo consulente, Sgabbi l'ha detto, per le indubbie dote estetiche, ma perché ha dimostrato davvero anche un'intelligenza particolare in questo caso, ha fatto una cosa giusta, e come diceva Romeo, andiamo avanti, perché finché governeremo questa Regione, finché governeremo questa maggioranza, e da questo punto di vista iniziate a essermi particolarmente simpatici, voleghisti, andiamo avanti così, difendiamo la nostra famiglia, la famiglia tradizionale. Grazie. Grazie, Consigliere Carugo, ho chiesto di intervenire la Consigliere Nanni, mia facoltà. Grazie, Presidente. Dunque, bel esempio, mi viene da rispondere al Consigliere Carugo, bel esempio quando si entra nelle istituzioni, quando si governa una Regione così importante come la Lombardia, e si impongono ai cittadini dei modelli come quello della famiglia naturale, contro il quale non è nessuno qui dentro quest'Aula del Consiglio regionale, perché è ben inteso, la famiglia che voi definite naturale, è soltanto una delle espressioni in cui si manifestano le numerose forme familiari oggi giorno, ma non solo oggi giorno, perché, caro Carugo, a te i tuoi genitori ti avranno insegnato che la famiglia è mamma, papà e figlio, e magari ti avranno anche detto che l'uomo è il capofamiglia e che la donna deve stare a casa a fare la calzetta, ma nel frattempo i tempi si sono un attimino evoluti, e ve l'ho citato prima, leggetevi le sentenze della Corte Costituzionale, perché voi siete rimasti troppo indietro e onestamente io sono rimasta delusa anche dall'intervento della collega consigliera Santisi, non mi aspettavo onestamente che si arrivasse a strumentalizzare i fatti di Parigi per una situazione come questa, dove le forme di intolleranza sono praticate dalla Giunta stessa nel momento in cui a un convegno che dovrebbe tutelare la famiglia come dice il titolo, solo che lo dice solo il titolo del convegno, perché voi qui continuate ad aggiungere l'aggettivo naturale, che va quindi a snaturare completamente quello che doveva essere un vero convegno, cioè un convegno per difendere la famiglia in tutte le sue espressioni. E quindi io mi domando, perché mi pongo delle domande quando sento interventi di questo genere, ma perché a voi fa tanta paura la parola omosessualità? Perché avete così tanti problemi ad affrontare il fatto che ci sono persone come voi che hanno un orientamento sessuale diverso e che però meritano gli stessi diritti che avete voi? Questa è una posizione di intolleranza, negare i diritti ad altre persone solo perché hanno un orientamento sessuale diverso dal vostro. Signori, questa è intolleranza. Quindi non venite a fare poi la paternale sui fatti di Parigi, la libertà di religione e tante cose che sentiamo dire quando voi siete i primi a negare i diritti. perché nel momento in cui mi dite sì, io ho gli amici omosessuali, però sono diversi da me, io devo avere un trattamento diverso perché a me hanno insegnato che esiste l'uomo e la donna. Ho sentito dire il DNA dice che c'è un uomo e una donna. Ma lo sapete che l'orientamento sessuale è costituzionalmente garantito, è garantito dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, è garantito dall'Organizzazione Mondiale Sanità, lo sapete che è una discriminazione porre una posizione così in antitesi. Persino ho sentito citare il Papa. Papa Francesco ha fatto una dichiarazione molto chiara in merito, qui nessuno di voi l'ha riportata. Papa Francesco ha detto chi sono io per giudicare gay o divorziati. Papa Francesco è molto più avanti di voi, è molto più evoluto di voi. E poi sento dire la poligamia non fa scandalo, ma la famiglia omosessuale sì. Ma queste sono dichiarazioni che non stanno né in cielo né in terra. Oltretutto si invitano delle associazioni, alcune delle quali hanno fatto delle dichiarazioni vergognose associando l'omosessualità a una patologia. Praticamente viene offerta la soluzione di curarli gli omosessuali. Quindi queste cose vanno dette perché voi non vi rendete conto ma state offendendo oltre che i vostri colleghi perché bene sì signori, gli omosessuali sono anche fra voi, sono anche nei vostri partiti e vi dovreste vergognare che non possono esprimersi perché con persone come voi come fanno ad esprimersi nel pieno della loro dignità e della libertà di espressione. fatevi un esame di coscienza, offendete loro prima di tutto e poi offendete tutti quei cittadini lombardi e tutte quelle famiglie lombarde che non sono contemplate dalla vostra famiglia naturale. Allora Pedrazzini ha anche detto perché ho preso un po' nota di tutte le castronerie scusate il termine che ho sentito dire non è pensabile avere posizioni unilaterali e lo ha detto rivolgendosi all'opposizione. Cioè la posizione unilaterale qui che noi stiamo denunciando è la vostra signori perché quando si fa un convegno sulla famiglia e si invita soltanto una voce del coro per rappresentare il modello che a voi piace di più escludendo tutti gli altri a voi cosa sembra? Non è una più posizione unilaterale di questa? E concludo concludo dicendo che la mozione presentata dal PD naturalmente incontra il nostro favore nei contenuti però ho da dire qualcosina anche sul comportamento del PD perché? Perché voi fate gli amici dei gay quando vi conviene. Sono due anni sono due anni almeno che promettete un progetto di legge per i matrimoni omosessuali e questi poveri omosessuali sono ancora bocca asciutta quindi non basta fare gli amici dei gay per fare il teatrino mediatico sui giornali ma bisogna anche concretamente spingere i propri colleghi parlamentari a portare avanti un disegno di legge che sia coerente con i vostri principi perché se voi davvero ci credete nel matrimonio omosessuale bene adesso siete il governo e tutti gli strumenti ci sono per risolvere i problemi e garantire i diritti. Grazie Colleghi vi prego di ristabilire un clima diciamo di lavoro serio ha chiesto di intervenire il consigliere Decorato e ne ha facoltà Grazie presidente io volevo iniziare un po' dalla parte finale di quanto è stato detto fino ad ora nei vari interventi voglio dire al PD che mai questa maggioranza è così compatta ci avete fatto un grande regalo che come avete visto su questo tema ma lo avete anche registrato anche su altri questioni ma su questo tema in particolare c'è una compattezza totale grazie ai consiglieri del PD vi ringrazio a nome della maggioranza perché voi invece siete un po' divisi da quello che ho sentito da Vananni non è che c'è ma no io mi meraviglio che non lo ascoltate evidentemente siete presi dall'eccitazione dell'argomento quindi colleghi non dibattete tra di voi io non sono io non sono sono tranquillissimo ho detto non mi sembra che la consigliera Nanni abbia nessun intervento nelle parti finali in linea con quello e ha ricordato qualcosa non devo ripeterlo lei l'ha sentito anche perché non sono il ripetitore della NAR per cui risentitelo mi sembra che l'opposizione è divisa o comunque molto divisa l'opposizione io su questi argomenti vedete consigliere sono molto attento a non ridere e a non prenderla sotto canta sono argomenti abbastanza complicati anche perché siccome sono abituato per altra mia funzione a parlarne di questi argomenti in altre sedi quindi bisogna essere molto attenti a come se ne parla detto questo quindi un grazie all'opposizione per aver compattato magnificamente questa maggioranza vorrei far rilevare che voi contestate due questioni una è l'utilizzo del logo della regione ma su quello io credo che nessuno possa contestare arrivo ho detto due arrivo l'altra è su quello credo che nessuno possa dire che la maggioranza che regge la regione debba fare dei convegni su questo o quell'argomento interpellando sempre tutti può capitare che magari la maggioranza ha una linea ben precisa che non è quella delle famiglie al plurale ma è quella della famiglia al singolare voi avete una concezione pluralistica della famiglia noi abbiamo una concezione che è quella che è ribadita negli articoli 29 e 31 della Costituzione e negli articoli del Codice Civile 143 e 148 qui è la differenza ma non voglio eludere il problema il lodo è sul la questione ex po allora noi siamo in ex po siamo presenti in ex po e a normativa vigente dello Stato italiano abbiamo fatto un convegno che non è in violazione di norme dello Stato italiano ma è in perfetta piena regola delle norme dello Stato italiano dovremmo consultare tutti i paesi del mondo per fare un convegno vi sembra normale no noi siamo aderenti come paese ospitante dell'expo e non abbiamo contravenuto a nessuna delle norme e non abbiamo violato nessuno anzi siamo in perfetta rispetto delle norme costituzionali e del Codice Civile del nostro paese allora dov'è questo problema il problema è che il problema è che noi utilizziamo Expo e allora dovremmo sollevare e non lo abbiamo mai fatto il problema del logo delle varie amministrazioni comunali provinciali regionali che utilizzano il loro logo in maniera anticostituzionale perché quando si trascrivono e non parlo del sindaco di Milano parlo di tutti quei sindaci che hanno trascritto compresi il sindaco di Roma trascrivono anche del sindaco no non è che non parlo Castellano ma anche per carità anche perché non è solo lui qualcuno è stato commissariato a Udine il sindaco vostro di centro-sinistra qui il prefetto invece aspetta ma quando qualcuno ha fatto qualcosa anticostituzionale non è che noi siamo andati e abbiamo convocato il popolo davanti a Palazzo Marino dicendo attenzione o davanti al Campidoglio per dire attenzione qui si sta violando e si violava perché se no i prefetti perché hanno mandato lettere e hanno mandato i commissari in quei comuni a Udine il prefetto di Udine ha commissariato non lo abbiamo fatto non abbiamo mobilitato le folle per dire attenzione qui si sta violando la Costituzione che è la carta fondamentale del nostro Paese non lo abbiamo fatto e questo è quello che ci divide voi mobiliterete sabato non so quanti e quante persone farete ci avete fatto un'ottima propaganda vi ringraziamo dico all'assessore Cappellini non avremmo fatto non avevamo potuto fare di più e avevamo dovuto spendere anche qualche soldino qui è stato tutto gratis paginate intere per fortuna gratuite a questo convegno quindi siamo riusciti anche a farlo notare anche fuori dal nostro Paese mi dico quindi vi ringraziamo anche per questa enorme pubblicità che avete dato a questo convegno ma la questione dei loghi e termino qui noi non abbiamo mai contestato che i comuni dessero o province o addirittura anche regioni dessero il loro logo anche quando queste iniziative erano un po' strane un po' strane io non voglio dire e lo potrei dire anticostituzionali ma un po' strane perché vede quando si dà il logo ha addirittura quando si è dato il logo per una manifestazione del salone del legno a Milano del salone e si è dato il logo a una manifestazione che per cinque giorni era intitolata lesbiche fuori salone laboratorio due punti simulacri di piacere leggo uno spettro si aggira per le nostre camere da letto è ora di aprirgli la porta e portarlo a passeggio questo laboratorio vuole creare uno spazio di discorso che renda la sfera del piacere comunicabile attraversabile contestabile e condivisibile al di là di timori e costrizioni socioculturali lei ha sentito urla da parte nostra abbiamo fatto fare articoli di cinque sei colonne su quotidiani no però questo è stato fatto con logo di amministrazioni come quella del comune di Milano che ha ritenuto di farla abbiamo fatto qualche intervento in consiglio comunale ma non ci siamo mossi davanti al comune per dire protestiamo perché questa è una cosa ridicola ignobi no non mi ha sentito urlare né qui né tantomeno lì voi invece continuate in una tecnica che quella sempre usate il nemico è quello che non la pensa come noi io non devo ritornare sui discorsi degli islamici di come gli islamici trattano le donne perché è tutto un discorso che è stato già fatto non lo voglio rifare però cari amici della sinistra io vi faccio presente che quell'ordine del giorno che voi avete presentato qui io lo potrei tolta la parola regione messa un altro capoluogo la potrei presentare pari pari in quella sede perché se qui si usa solo il logo Expo lì si usa il logo del comune di Milano per cose di questo genere e non mi sembra che noi abbiamo mai detto quello che voi scrivete nella vostra mozione e che ribadite io faccio un unico intervento presidente dove voi addirittura parlate di discriminazione culturale non l'abbiamo mai fatto in quella sede io questa mozione me la conservo me la tengo in tasca poi cambio qualche piccolo cioè cambio lente di riferimento e la ripresenterò in un'altra sede poi vediamo e glielo dirò alla fine questa è una mozione pari pari non ho cambiato una parola era stata presentata in consiglio regionale dal gruppo di opposizioni di consiglio regionale perché se cambio solo l'ente e l'istituzione questo è un ordine del giorno che può andare benissimo nelle vostre assemblee dove la discriminata sapete che è la famiglia singolare perché voi di famiglia al singolare qui ne parlate ma dove date questi loghi a queste manifestazioni e ne avete dati tanti la parola al singolare non si può citare la cita solo l'opposizione le vostre maggioranze sono per il plurale ed è fondamentale questo passaggio perché noi rispettiamo gli articoli 29 e 31 della costituzione non ve ne dimenticare noi rispettiamo il codice civile voi fino ad oggi non solo non avete cambiato la costituzione pur avendo avuto maggioranze parlamentari non l'avete mai messa in discussione nell'articolo 29 nell'articolo 31 della costituzione eppure potevate cambiarlo e non lo avete fatto e noi a norma di quegli articoli continueremo a sostenere che noi siamo nella strada giusta voi siete nella strada sbagliata e dove siete in maggioranza e dove siete all'opposizione grazie consigliere decorato ho chiesto di intervenire il consigliere Stefano Bruno Galli nella facoltà grazie presidente ma io trovo davvero che ne siano state già dette troppe su questo convegno e non credo che sia un problema sostanzialmente di disinformazione il problema è venuto fuori credo in modo abbastanza semplice emerso in modo abbastanza significativo nel corso di questo dibattito ma anche nei giorni scorsi è un problema davvero di strumentalizzazione ideologica che si fonda sulla mistificazione della realtà è inutile girarci intorno io la trovo stucchevole questa polemica che si sta trascinando da una quindicina di giorni che ha per oggetto anche povero assessore alla cultura che ha avuto la straordinaria idea di organizzare che cosa semplicemente un convegno sulla famiglia tradizionale sulla comunità ma così come trovo oltre che stucchevole anche ridondante il dibattito così come si è svolto fin qui e io non credo che facciamo una bella figura davanti all'opinione pubblica questo è il punto non credo che queste polemiche rendano onore non credo che queste polemiche accese in cui si prende quello che non c'è in questo convegno per strumentalizzarlo e quindi mistificare la realtà non credo che facciamo cioè è come se uno parlasse di pere e mele due cose diverse sono due cose diverse e strumentalizzare il fatto che non ci siano le pere insieme alle mele è davvero una mistificazione della realtà è una strumentalizzazione ideologica che non ci rende onore non rende onore a questa istituzione alla nostra dignità di essere qui consiglieri l'abbiamo detto famiglia e comunità sono questi due semplicemente gli oggetti del contendere come emerge dal titolo dell'iniziativa promossa dalla regione io penso che prima o poi davvero prima o poi è già accaduto quando parlavamo di riforme costituzionali prima o poi credo che davvero ve li regalerò i sei volumi degli atti dell'assemblea costituente quei sei volumi grigi con i quali ogni studioso ha fatto i conti almeno una volta nella vita soprattutto se uno studioso serio studiosi di discipline economiche sociali e giuridiche perché da lì che bisogna partire da lì perché da lì dagli atti del dibattito che si svolse in assemblea costituente emerge bene qual è il senso dell'articolo 29 della costituzione repubblicana consigliere Nanni lei ha ricordato benissimo che l'articolo 29 dice che la repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio certo ma il matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi bisogna anche leggere il secondo comma non solamente il primo comma dell'articolo dell'articolo 29 perché l'articolo 29 deve essere preso nel suo complesso e qui non è rimasto indietro nessuno e qui non è rimasto indietro nessuno se mai siamo avanti è un altro paio di maniche i protagonisti innanzitutto di quel dibattito che si svolse in assemblea costituente leggiamoli i nomi di chi dibatté sull'articolo 29 Dossetti il giovane Aldo Moro la Pira non personaggi di secondo piano e per la sinistra e per il partito comunista chi è quasi paradossale a me viene da ridere dirlo però due giganti Palmiro Togliatti e Nilde Iotti è quasi paradossale che furono loro due a difendere le ragioni della sinistra e le ragioni del matrimonio guarda caso eh e a me stupisce il fatto che dopo il crollo delle ideologie nel momento in cui del patriottismo il patriottismo costituzionale in questo Paese è diventato uno strumento ideologico di una parte politica ben precisa ecco a me stupisce che ci sia questo stravolgimento ci sia questa violenza usata nei confronti della Costituzione Repubblicana l'articolo 29 colloca e si rifà e si riferisce a un approccio neo-giusnaturalista a proposito della famiglia e lo dice eh lo dice chiaramente guardate che la famiglia è un diritto pre-politico cioè arriva prima della legge positiva dello Stato questo è il dato di fondo è un diritto naturale così come è il diritto alla comunità così come è il diritto alla secessione ci sono quei diritti che sono dei diritti pre-politici tutta c'è una tradizione di giuristi che colloca il diritto alla secessione tra i diritti naturali ecco c'è tutta la tradizione del giusnaturalismo e dice che sostanzialmente la famiglia è un diritto pre-politico è un diritto naturale per la Costituzione la famiglia la comunità risiedono prima della legge positiva dello Stato quindi prima della Costituzione degli Stati l'approccio giusnaturalistico è lo stesso approccio che c'è nell'articolo 2 della Costituzione Repubblicana che è un articolo inserito tra i principi fondamentali l'articolo 2 che dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e quindi ci sono dei diritti inalienabili propri individuali che si traducono nelle formazioni sociali tra i quali la Costituzione individua la famiglia punto a capo non individua altre che presistono rispetto all'ordine politico e che quindi sono anteriori rispetto alla legge positiva dello Stato e il quid gius naturalistico è dato anche e lo ha detto la Corte Costituzionale e non l'ha detto nessun altro il quid gius naturalistico è anche dato dalla differenza di sesso cioè dal fatto che alla base della famiglia ci sia un uomo e una donna che l'ha detto la Corte Costituzionale che il quid gius naturalistico non è dato solo dal diritto alla famiglia come diritto che precede lo Stato ma anche è dato dal fatto che si mettano insieme due persone di sesso diverso questo è lo spirito autentico e vero della Costituzione repubblicana quindi famiglia e comunità volontaria territoriale sono dei diritti naturali tutto il resto tutto il resto con tutta la legittimità tutto il riconoscimento tutta la dignità delle cose si inserisce in un ordine politico positivo cioè la famiglia preesiste rispetto allo Stato tutto ciò che è altro che è diverso deve essere riconosciuto dallo Stato quindi compresi i diritti civili che sono dei diritti politici non sono dei diritti pre-politici il diritto pre-politico è la famiglia il resto sono i diritti positivi riconosciuti dallo Stato e quindi si collocano su un altro piano tutto qui non c'è nessuna nessuna paura noi non siamo dei codini reazionari nel momento in cui organizziamo un convegno sulla famiglia e la comunità intese come diritti pre-politici poi esistono i diritti politici che si collocano su un altro piano e che nessuno si mette a sindacare e è qui la strumentalizzazione radicale che è stata fatta la Costituzione questa parentesi voglio farla prima di concludere la Costituzione respinge quindi con fermezza quelli che tecnicamente si chiamano i diritti riflessi che erano quei diritti ai quali si erano appellati i totalitarismi per invadere la sfera familiare per condizionarglia e applica davvero il pluralismo in base al quale riconosce le forme sociali preesistenti rispetto allo Stato e dunque dotate di una dimensione giuridico-politica autonoma che stabilisce appunto quei diritti inalienabili e intangibili che esistono prima dello Stato così e solo così vengono tutelate le condizioni economiche sociali e culturali della famiglia ma anche i diritti da riconoscere alla prole in ordine all'educazione e all'istruzione ed è su questo su questa convergenza sulla tutela dei diritti economici sociali culturali il diritto di istruzione alla prole che si registrò la convergenza in assemblea costituente tra la democrazia cristiana sostanzialmente tra Moro e Togliatti è proprio qui perché nel momento in cui Moro ribadiva la necessità di tutelare la dimensione cattolica del nucleo familiare allo stesso modo Togliatti voleva tutelare la dimensione ideologica di tipo marxista derivante da una famiglia di estrazione operaista questa è la convergenza sulla quale si misurò l'assemblea costituente dice se la famiglia cattolica ha diritto a avere una progenie di tipo cristiano cattolico un'educazione cattolica allo stesso modo la famiglia marxista ha diritto a avere dei figli che crescono nell'ottica che crescono nella prospettiva che crescono nella cultura nell'albeo della cultura marxista e allora di che cosa stiamo parlando qua io sono davvero stufo di fronte a queste strumentalizzazioni ideologiche cerchiamo di essere davvero più seri più competenti atteniamoci ai contenuti della comunicazione politica e a quello che dicono i pieghevoli dei convegni dove si dice la famiglia e la comunità che sono diritti naturali e a questo è dedicato il convegno punto e basta cerchiamo di fare davvero le persone serie e davvero chiudiamola qui con queste polemiche stuchevoli quindi ovviamente sia la mozione che ha illustrato il collega del Gobbo no alla mozione che ha illustrato la consigliera Valmaggi peraltro io mi permetto di ricordare che sul logo e l'utilizzo del logo il presidente Maroni ha chiarito nettamente col B e quale debba essere l'utilizzo del logo di Expo e anche perché a me piacerebbe che tante volte per esempio anche il comune di Milano mi spiegasse quando usa il logo di Expo quante volte lo usa sproposito o quante volte lo usano sproposito per esempio gli sponsor di Expo per cui Expo non si capisce come l'alimentazione cosa abbia a che fare con l'energia con la benzina eccetera se questa è la dimensione dell'utilizzo del logo di Expo il logo di Expo ci sta benissimo anche sul coraggioso convegno sulla famiglia e la comunità che ha organizzato questa giunta grazie grazie consigliere Galli ha chiesto di intervenire la consigliere Maria Teresa Baldini ne ha facoltà grazie presidente ma l'assessore Cappellini ha ribadito che il nucleo della società è la famiglia ma la cosa da chiarire dal mio punto di vista è quale famiglia cioè premetto che sono una persona cattolica che condivido in senso lato il concetto di famiglia però oggi in un dibattito dobbiamo capire qual è il valore della famiglia cioè da un punto di vista culturale qual è la famiglia e non parlare di famiglia solo in senso lato ecco che allora un'istituzione deve spostare l'attenzione non sulla parola famiglia per quanto riguarda il dibattito di questo convegno che è stato preannunciato ma sulla parola comunità allora io mi chiedo che quello che oggi fino ad oggi è stato sbandierato e continua a essere sbandierato non corrisponde alla realtà perché la comunità di oggi è una comunità in cui la famiglia ha quale famiglia la famiglia è quella che fatta da un uomo e una donna in senso lato è così di sesso diverso ma poi c'è la famiglia musulmana poi c'è la famiglia orientale poi ci sono persone conviventi ci sono persone separate ci sono tante persone allora la vera persona le persone che veramente danno sostegno alla comunità sono i contribuenti e allora è su questo bisogna una volta per tutto essere chiari da un punto di vista intellettuale chi paga le tasse mantiene coloro che non pagano le tasse quindi vuol dire che sono i contribuenti che mantengono la società e allora se questo è il titolo di questo convegno possiamo dire mettiamo la famiglia cattolica perché questo è il nostro modello culturale questo è il nostro modo di portare avanti la comunità ma se due persone se due persone convivono se due persone quindi non hanno non sono di religione cattolica non sono nucleo della società non sono contribuenti della società ecco che allora io penso che ritornando anche indietro cioè basta pensare al concetto della famiglia romana che quindi è la comunità la base dello Stato e quindi questo deve essere detto e deve essere detto in maniera chiara proprio per onestà intellettuale quindi continuo a dirlo perché nessuno penso al coraggio di dire che sono le persone che pagano le tasse che mantengono la comunità quindi sono famiglie a tutte quelle persone che in qualche modo contribuiscono a mantenere la comunità e quindi penso che a questo in questo convegno andava aggiunto la parola famiglia tradizionale cattolica grazie grazie chiesto di venire il consigliere Gallera nella facoltà grazie presidente no volevo darò un piccolo dispiacere al consigliere Decorato che diceva che c'era una grandica presenza ma io ho trovato un po' paradossali tutte queste discussioni che sono sorte su questo tema e penso che prima di tutto bisogna forse che come consiglio e come giunta si faccia una riflessione in tema di concessione dei patrocini cioè il patrocino non vuol dire mettere nelle condizioni consentire la realizzazione di un convegno tantomeno dare magari gratuitamente una sala affinché un convegno venga svolto e quindi qualcuno possa esprimere la propria opinione ma in qualche modo c'è la regione Lombardia che sostiene e riconosce l'iniziativa che viene fatta io trovo paradossale e singolare il dibattito che si è sviluppato perché oggi viene contestata le posizioni di alcune associazioni che partecipano a questo convegno che hanno un'indicazione molto chiara su cui ritorno fra pochi secondi è stato forse ricordato in quest'aula solo pochi mesi fa il consiglio regionale ha dato il proprio logo che è uguale cioè la rosa comune all'iniziativa del gay pride io ho ritrovato singolare e secondo me inutile la concessione del patrocino e cioè di un sostegno ad un'iniziativa che era una iniziativa con una sua totale legittimità che qualcuno può essere a favore o contro ma su cui non capivo qual era il sostegno istituzionale così come non capisco e non lo ritengo dall'altro lato forse su questa o almeno sulla natura delle espressioni assunte da alcune associazioni allora o lo si contesta in ogni caso o invece si ritiene che sia giusto darlo a chiunque lo proponga al di là voglio dire dell'utilità o della necessità di sottolineare il valore per le istituzioni di ragione Lombardia di un'iniziativa e allora però così lo sviliamo come mi sembra si sta facendo Presidente io penso che non si è fatta in questo caso ed è per questo che io non parteciperò al voto ed esco dall'aula un favore ad un'iniziativa importante come quella del sostegno della famiglia naturale o tradizionale iniziativa che io ho sostenuto votando un ordine del giorno ritengo importante che al di là di tutto oggi ci sia una riflessione su quel tipo di struttura che regge la comunità e che regge la società però ho l'impressione che alcune delle associazioni che sono state invitate abbiano un obiettivo all'interno degli scopi sociali che si pongono che non è che quello di parlare di famiglia ma che di parlare di altro e se la tutela della famiglia naturale è un valore assoluto e come ci ha detto tottamente il presidente Galli è un elemento naturale che prescinde il diritto positivo io penso che il rispetto per la natura del singolo uomo sia un diritto altrettanto importante che vada altrettanto rispettato e allora se la natura di un uomo è quella di avere un approccio alla propria sfera affettiva e sessuale diversa rispetto a quella di un altro uomo va assolutamente rispettato anche per questo le modalità di approccio di alcune associazioni mi riferisco a Obiettivo Shari per esempio hanno degli approcci diversi che secondo me non sono quelli della tutela della persona ma di considerare come è stato detto l'omosessualità una malattia quasi che va curata e bisogna aiutare la persona a guarire o a trovare la giusta strada io questo è un equivoco che ha portato anche oggi questa aula a discutere non di famiglia ma a discutere di altro così come è successo sui giornali forse è stato fatto non so se con leggerezza o voluto perché non si sta portando un valore positivo all'obiettivo che ci si poneva che era quella di valorizzare la famiglia tradizionale e anzi qua abbiamo consentito che si parlasse di pluralità una pluralità di famiglie e di idee di famiglie io proprio perché ritengo che invece le iniziative vadano fatte tutte e bisogna consentire a chiunque di esprimere la propria opinione ma che il marchio della regione è qualcosa di così importante che vada assegnato solo ad iniziative che si ritiene in cui il consiglio e la giunta si riconoscono per l'alto valore che portano al dibattito culturale o alle iniziative sociali della regione lombardia ritengo che non parteciperò a questo voto grazie ultimo intervento chiesto di venire il consigliere Malvezzi ne ha facoltà grazie presidente innanzitutto faccio i complimenti all'assessore cappellini per questa iniziativa e parto dal titolo di questo convegno difendere la famiglia per difendere la comunità e mi domando e vi domando che cosa c'è di meno vero di questo titolo e di contenuti di questo convegno oggi è esperienza di chiunque osservare le condizioni della nostra società e capire come la fragilità in cui si trova oggi l'istituto familiare per come l'abbiamo conosciuto e per come è costituzionalmente riconosciuto ebbene a questo punto dicevo la fragilità di questo istituto è una delle ragioni del grande malessere che la nostra società sta vivendo e questo è un dato di fatto la grande drammaticità e la frammentazione che la società contemporanea sta vivendo deriva dalla fragilità della famiglia e questo è un dato di fatto ed è la causa e noi dobbiamo lavorare perché si ricomponga una comunità attraverso una ricomposizione e una riproposizione di quei valori che sono fondanti della nostra società cioè quelli della famiglia che non è consigliera Baldini la famiglia solo la famiglia cattolica la ricostruzione che ha fatto Galli è stata puntuale ma io domando ai banchi dell'opposizione ma i proletari chi erano se non quei soggetti che avevano come unica ricchezza i propri figli a documentazione del fatto che la famiglia anche della sinistra e della sinistra marxista è sempre stata riconosciuta come un'entità meritevole di tutela meritevole di tutela al punto da individuare il soggetto di riferimento come ricco dei propri figli come a documentare un fatto che non esiste una comunità senza un luogo che favorisca una generazione questa è la storia e la lettura dei fatti della cultura del nostro paese che ha consentito di arrivare ad un testo che è la nostra Costituzione che purtroppo viene citato spesso a Mavoro come ha fatto a lei consigliere in anni perché quando si parla di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio si parte da un fatto che le norme sono il punto di sintesi dei valori più profondi che nascono e che si generano all'interno di un popolo e non un ribasso un compromesso a ribasso invece noi oggi abbiamo generato una nuova fobia la famigliofobia e io lo difendo questa cosa abbiamo generato una nuova fobia oggi ogni qualvolta si inizia e si parla di famiglia inevitabilmente si deve attivare polemiche o come dire o depistare il tema dovendo contrapporre a questo istituto altre realtà che nascono da che cosa da un'ossessione ormai di dover legiferare e regolamentare qualsiasi forma affettiva questo è il tema che noi al quale stiamo assistendo è il grande equivoco al quale stiamo assistendo cioè il fatto di dover e mi spiace che anche da parte del PD ci sia questa corsa l'ossessione a dover regolamentare i rapporti affettivi questo è qualcosa che è incomprensibile e impossibile mentre il valore non solo costituzionale ma legale ma culturale e sociale della famiglia è un'esperienza che ognuno di noi ha fatto dentro il suo luogo familiare dentro i suoi rapporti e ognuno di noi è frutto di questo positivo di questa esperienza allora perché ostinarsi a generare una sorta di fobia rispetto all'istituto familiare e allora io guardando tra i relatori vedo che c'è Mario Adinolfi Mario Adinolfi non è un personaggio che viene dalla luna ma è uno dei fondatori del PD è uno che però io ho avuto l'occasione di sentirlo non ha ceduto al pensiero debole cioè alla banalizzazione di ciò che è vero di ciò che quotidianamente egli sperimenta nella sua famiglia e nelle sue relazioni e rivendicando la sua appartenenza a un partito di sinistra riconosce ancora una volta ancora il coraggio di guardare la realtà e dire che dentro la famiglia ritrovo un luogo dove l'umano la persona si sviluppa e genera opportunità per tutti allora io partendo da questo fatto come dire sostengo ovviamente l'iniziativa sarò presente mi complimento e invito tutti a guardare a bassare i toni della polemica e a guardare davvero ciò che è stato per noi per la nostra famiglia per noi come uomini e come politici il fatto di aver potuto vivere all'interno di un contesto accogliente che ci ha consentito di diventare uomini grazie 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 consigliere Malvezzi ha chiesto di intervenire per fatto personale per un minuto il consigliere Borghetti grazie grazie presidente no perché io non posso accettare continuamente dai banchi della maggioranza di sentirmi accusato di essere uno che ha una famiglia fobia cioè il 90% del tempo che avete dedicato ai vostri interventi è stato fatto a sostegno della famiglia che alcuni chiamano naturale sostenendo la tesi che da queste parti si è contro la famiglia io questa cosa la reggetto altro che fatto personale non so cosa ci sia nel regolamento di più forte del fatto personale ma non voglio che ci si metta addosso un'etichetta che nessuno di noi merita perché nessuno di noi oggi ha sostenuto tesi contro la famiglia il tema era un altro oserei dire che il 90% del tempo speso su questo dibattito era fuori tema qui nessuno ha sollevato la questione che non si debba sostenere la famiglia o parlare della famiglia nei termini in cui anche voi ne avete parlato qui il tema era un altro quello di non dare spazio a tesi omofobe dentro a un convegno con il logo di Regione Lombardia di Expo quello era il tema su cui hanno parlato i miei colleghi però per cortesia così come voi non accettate di essere etichettate in un certo modo non potete etichettarci di qualcosa che non abbiamo sostenuto qui il sostegno alla famiglia è condiviso tanto quando lo condividete voi dopodiché ci si dividerà su una serie di altre questioni che purtroppo però non sono state affrontate come si dovrebbe nel corso di questo dibattito che ripeto è stato alla fine centrato rispetto a quello che era il tema che avevamo posto grazie bene dopo l'intervento per fatto personale e familiare del consigliere Borghetti si è conclusa la discussione generale io dico solo al termine di questa discussione mi sarebbe piaciuto che qualcuno documentasse un esempio di questo presupposto contenuto omofobo dei promotori del convegno o delle famiglie o delle associazioni invitate devo dire con franchezza che non mi è ancora capitato di trovare una documentazione di questo ne sarei grato a chi volesse fornirmela almeno per capire su cosa è stata costruita la polemica detto questo siamo ora in fase di dichiarazioni di voto su entrambe le mozioni pertanto sono riaperte le prenotazioni prego i colleghi che intendono intervenire in dichiarazione di voto di prenotarsi adesso al momento si è prenotato solo il consigliere del gobbo se non ci sono altre dichiarazioni di voto io chiudo le prenotazioni del gobbo Nanni Brambilla secondo il criterio statutario avranno la parola in questo ordine quindi prima il consigliere del gobbo ne ha facoltà sì grazie presidente una dichiarazione di voto sintetica considerando appunto gli interventi anche del gruppo dell'NCD che mi hanno appunto preceduto io riprendo le parole del collega Carlo Borghetti nessuno se ho ben capito è contrario alla famiglia quindi siamo tutti favorevoli alla famiglia secondo quello che la Costituzione prevede no a un convegno omofobo e quindi mi vengo mi viene a dire ma di che cosa stiamo parlando perché io ribadisco attraverso appunto la dichiarazione di voto del nuovo centrodestra quindi a favore e a sostegno del convegno organizzato dal presidente Maroni e dall'assessore Cappellini a cui appunto va ancora il plauso per questo intervento che l'intendimento della giunta non è mai stato quello discriminatorio e per discriminare chi ha un orientamento omosessuale il tema del convegno del prossimo sabato è inequivocabile ripeto la tutela e la valorizzazione della famiglia come riconosciuta dalla Costituzione è valorizzata anche da un ampio ventaglio scusate di norme nazionali e regionali a cui abbiamo fatto riferimento nel dibattito quindi chi ha voluto leggere e riprendo proprio l'intervento di Carlo Borghetti contenuti diversi rispetto ad un convegno che non si è ancora celebrato lo ha fatto in modo strumentale e censurando io dico in modo molto grave preventivamente un dibattito ancora da tenere quindi il nostro sarà un voto chiaramente a favore a sostegno del convegno organizzato dall'assessore Cappellini e dall'altra parte un voto contrario alla mozione presentata dal PD grazie consigliere Del Gobbo approfitto del suo tempismo per ricordare che con le modifiche introdotte nel regolamento da oggi le dichiarazioni di voto hanno un limite di tre minuti sulle mozioni che il consigliere Del Gobbo ha pienamente rispettato consigliere Nanni la parola alla consigliere Nanni Sì dunque Presidente non mi dilungherò oltre perché già nel dibattito abbiamo espresso molto chiaramente le nostre posizioni ribadirò ancora una volta il concetto che la famiglia è una formazione preesistente al diritto positivo quindi al collega Malvezzi che forse non mastica tanto di queste cose ribadisco che la Costituzione parla di società naturale non dice che deve essere formata da un uomo e da una donna perché la famiglia è la famiglia e non può esserci una legge che stabilisce qual è il modello giusto o sbagliato di famiglia la famiglia è famiglia da qualunque componente sia composta quindi uomo donna uomo uomo donna donna e anche donna trans uomo trans ha chiesto di intervenire per le grazie voto del gruppo PD il consigliere Brambilla ne ha facolta grazie il gruppo del partito democratico voterà con un voto contrario alla mozione presentata dal gruppo del nuovo centrodestra anche se come si evince anche dalle parole del consigliere Borghetti il dispositivo previsto dalla mozione avrebbe potuto anche godere del nostro sostegno perché impegna il presidente della regione a promuovere tutte le azioni politiche amministrative economiche di comunicazione volte a difendere e sostenere il ruolo centrale della famiglia ora il tema non è questo il punto è che questo dispositivo è accompagnato da una serie di premesse di valutazioni che richiamano il convegno al quale abbiamo più volte nel corso della discussione fatto riferimento che a sua volta richiama un ragionamento che dal nostro punto di vista è discriminante dal punto di vista di una corretta interpretazione del ruolo istituzionale io vorrei richiamare qui stamane le parole con le quali stamane è stata introdotta questa seduta parole importanti significative del console francese che ne ricordare un fatto tragico ha voluto riaffermare due concetti ai quali noi oggi ci riferiamo che sono quelli di democrazia e di laicità laicità è il punto fondamentale rispetto al quale l'iniziativa che viene sostenuta dalla giunta sabato prossimo deborda perché laicità significa imparzialità della istituzione dello stato in questo caso della regione di fronte alle differenti ideologie di fronte alle differenti religioni garanzia di eguaglianza giuridica di tutti quanti se questo convegno l'avesse organizzato una forza o le forze componenti del centro destra nessuno avrebbe potuto dire nulla il punto è che questo convegno è organizzato da una istituzione nel momento in cui l'istituzione si fa carico di organizzare un convegno su un tema così delicato e importante come questo deve garantire all'interno del convegno stesso il pluralismo di opinioni non può affidare un convegno su un tema tanto delicato esclusivamente ad alcune organizzazioni che presenteranno una monocultura pesantemente omofoba come abbiamo potuto verificare andando a visitare i siti di queste organizzazioni e escludendo quindi di fatto quel pluralismo che è fondamentale delle istituzioni democratiche questo è il punto di fondo sul quale non ci ritroviamo ancora prima di qualsiasi discussione nel merito del contenuto del convegno perché di quello si potrà discutere appunto all'interno del convegno medesimo ma come prerequisito l'istituzione deve garantire il pluralismo questo non lo ha fatto e ancor più colpevolmente non lo fa trascinando in questa vicenda un simbolo che in questo momento inevitabilmente ci mette di fronte al mondo intero e fa sì che il mondo intero guarderà a questa regione verificandone ancora una volta purtroppo una impostazione retrograda e non al passo con quello che dovrebbe essere invece una regione che si apra davvero al mondo e all'Europa e che accolga nei prossimi mesi le tante culture che popolano questo mondo grazie io non ho altre dichiarazioni di voto ha chiesto di intervenire la consigliere Nanni su che cosa Presidente solo per chiedere il voto per appello nominale e siccome poi prima non l'ho specificato noi votiamo contro la mozione del centrodestra a favore della mozione del centrodestra la dichiarazione di voto va fatta adesso praticamente consigliere Nanni va bene allora votiamo per appello nominale ricordo che ai sensi dell'articolo 123 del regolamento che al comma 1 dice più mozioni concernenti il medesimo oggetto devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione che a differenza dell'ordine del giorno che mette prima la mozione 351 e poi la 349 per adempire il regolamento dobbiamo votare prima la 349 che è stata presentata come dice la numerazione precedentemente quindi pongo in votazione prima la mozione 349 e poi la 351 la mozione si mi ricordo il dottor Quaglini però che non sono stati indicati i cinque richiedenti del voto per appello nominale consigliere Nanni scusi Presidente i cinque richiedenti sono Corbetta Buffagni Carcano Maccabiani e la sottosera grazie allora dicevo pongo in votazione la mozione 349 utilizzo del marchio Expo 2015 per il convegno difendere la famiglia per difendere la comunità primo firmatario Brambilla è aperta la votazione votazioni di il solito 30 secondi per le mozioni però se tutti i consiglieri hanno votato posso chiudere la votazione ora chiudo la votazione presenti 68 votanti 67 favorevoli 26 contrari 40 astenuti 1 il consiglio non approva pongo ora in votazione la mozione 351 sostegno al convegno difendere la famiglia per difendere la comunità primo firmatario del Gobbo è aperta la votazione mi sembra che abbiano votato tutti i consiglieri quindi chiudo la votazione presenti 67 votanti 64 favorevoli 39 contrari 24 astenuti 1 non partecipano al voto 3 il consiglio approva bene con questo abbiamo esaurito la discussione e la votazione sulle ultime due mozioni riprendiamo l'ordine del giorno così come è stato presentato siamo ora in trattazione della mozione numero 91 congedo di paternità per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni primo firmatario il consigliere Saggese che invito a illustrare il contenuto pregando il consiglio pregando il consiglio per cortesia di ristabilire un po' di ordine grazie consigliere Malvezzi ha sbagliato a votare prego dichiari il suo errore provvederemo a correggere sì ho sbagliato nella seconda mozione quella presentata da Luca Delgobbo chiederei quindi la modifica del mio voto dando voto favorevole mi era parso che ci fosse un errore dalla luce che era comparsa al suo posto rettifichiamo l'intenzione del consigliere Malvezzi che era quella di votare a favore nella mozione allora riprendiamo dalla mozione 91 la parola al consigliere Saggese sì grazie presidente questa mozione tra l'altro si inserisce all'interno dell'argomento che è stato appena sviscerato sulla famiglia perché parliamo praticamente dei due componenti della famiglia del papà e della mamma e mi verrebbe da dire che probabilmente anche all'interno del nostro paese prima ancora di parlare di equiparazione tra famiglie naturali o famiglie non naturali forse bisognerebbe affrontare in maniera molto più sentita l'argomento dell'equiparazione dei due genitori che molte volte noi tra l'altro siamo stati i protagonisti di una legge che ha riguardato i genitori separati in cui abbiamo visto che non sempre per l'appunto c'è un'equiparazione del ruolo del papà con il ruolo della mamma e questa mozione va per l'appunto verso diciamo un'equiparazione di quello che è il ruolo paterno rispetto per l'appunto a quello materno nel senso che noi prendiamo spunto dalla legge 92 l'articolo 4 che praticamente la nota praticamente legge Fornero che al fine di sostenere la genitorialità e soprattutto promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia ha previsto un congedo obbligatorio di un giorno più altri due facoltativi per il padre ora il problema dove due facoltativi per il papà qualora poi venisse per l'appunto diciamo concordato con l'altro genitore ora una nota del dipartimento della funzione pubblica del 20 febbraio del 2013 ha specificato che questa regolamentazione che è già operativa è diventata immediatamente operativa scusa colleghi per cortesia io non riesco a sentire il consigliere saggese immagino che questo valga anche per altri in questa aula questa nota del dipartimento della funzione pubblica ha specificato che il congedo obbligatorio per cui ripeto alcuni passaggi che ho evidenziato nella parte iniziale del mio intervento del congedo obbligatorio per il padre più i due giorni facoltativi da istituire da concordare con l'altro genitore è immediatamente diciamo operativo ed è stato immediatamente operativo per i dipendenti del settore privato mentre per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche questa nota ha specificato che c'è bisogno e il tutto è subordinato all'approvazione di un'apposita normativa su iniziativa del ministero per la pubblica amministrazione di questo contenuto anche una circolare dell'Inps datata 14 marzo 2013 ne ha fatto menzione e tra l'altro c'è stata anche la divulgazione di una circolare interna qui all'interno del Consiglio regionale nella fattispecie il primo marzo del 2013 in cui si ribadiva che i padri lavoratori presso le pubbliche amministrazioni per poter usufruire del congedo obbligatorio di un giorno di congedo obbligatorio e dei due giorni facoltativi così come possono usufruire invece i padri lavoratori del settore privato devono attendere quella che è un'apposita normativa da parte per l'appunto del Ministero ora considerando che il congedo obbligatorio e facoltativo previsto dalla legge 92 all'articolo 4 non si applica direttamente ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con questa mozione vogliamo sensibilizzare renderci parte attiva nei riguardi del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione affinché venga emanata una specifica normativa e quindi avvii una equiparazione tra coloro che lavorano nel settore pubblico e coloro che lavorano invece nel settore privato io ritengo che questa mozione nasca e debba comunque essere indirizzata verso una risposta che sia ovviamente coerente all'evoluzione a cui è andata incontro la struttura della famiglia negli ultimi anni con il conseguente mutamento almeno in certa misura delle responsabilità e dei ruoli di entrambi i genitori un tempo il padre era colui che provvedeva in via quasi esclusiva al sostentamento materiale ed economico della famiglia la madre invece spettava il compito di accudire i figli e di gestire la casa al giorno d'oggi con l'emancipazione femminile e per la necessità che entrambi i genitori lavorino per poter garantire alla famiglia un reddito sufficiente madre e padre insomma si alternano nell'accudimento domestico dei figli ora visti questi cambiamenti sociali oramai lampanti e sotto gli occhi di tutti permangono tuttavia nei vari paesi europei significative differenti differenze nelle risposte che vengono fornite dalle varie politiche e dallo Stato sociale per fare ad esempio qualche riferimento in Francia in Svezia o nel Regno Unito il diritto per il padre di usufruire di permessi per occuparsi dei figli è da molto tempo consolidato mentre lo stesso diritto fa fatica ad affermarsi nel nostro paese per questi motivi si rende necessaria questa mozione perché si ponga attenzione nel settore pubblico ripeto perché questa mozione intende sollicitare il ministero affinché avvenga questa equiparazione si ponga attenzione nel settore pubblico ai diritti di genitorialità del padre ora non stiamo parlando ovviamente di una grande rivoluzione perché stiamo parlando poi di un giorno di congedo obbligatorio e di due giorni facoltativi quando invece in realtà dovrebbe avvenire una rivoluzione in maniera tale che ci possa essere una piena equiparazione di quello che è il tempo comunque in cui può restare a casa il papà rispetto per appunto alla mamma e proprio perché non è c'è una rivoluzione non ci sembra diciamo possibile poter tollerare questa disparità di trattamento tra il settore privato e il settore pubblico tra l'altro non dobbiamo rivolgere lo sguardo soltanto alla necessità dei padri al loro ruolo e alla necessità dei figli di avere accanto ovviamente l'apporto e l'educazione paterna ma anche alle aspirazioni delle donne che ogni giorno combattono per il riconoscimento nell'ambiente lavorativo in un mondo in cui entrambi i genitori di fatto necessitano di un posto di lavoro come dicevo poc'anzi non è più tollerabile che il posto di lavoro di una donna valga meno del posto di lavoro per appunto di un uomo per il semplice fatto che le tutele sociali non coprono adeguatamente le esigenze della paternità quindi l'approvazione di questa mozione vuole essere un passo verso ulteriori riforme che riconoscendo la responsabilità e i doveri del ruolo paterno diano al contempo alle donne la possibilità di affermarsi anche all'esterno della famiglia vorrei poi aggiungere in conclusione Presidente che non è un caso che si parli di questo in Regione Lombardia perché e qui vorrei tirare fuori un'indagine che è stata fatta nel 2010 dalla DECO infatti la nostra Regione registra all'interno del Paese il più alto numero di padri che si occupano abitualmente dei figli e la nostra Regione più di molte altre è colei che praticamente necessita di un adeguamento agli standard di tutela più avanzati in Europa perché la nostra Regione che come accade per i più svariati settori è in linea con i Paesi più progrediti del continente ora le famiglie Lombardi che hanno un padre lavoratore presso il settore pubblico stanno aspettando già da parecchio tempo che venga emanata questa direttiva da parte del Ministero affinché anche nell'ambito del settore pubblico ci possa essere il congedo obbligatorio di un giorno e facoltativo di due giorni da concordare insieme all'altro genitore questo è quello che chiede la mozione questo è quello che chiediamo al Ministero competente affinché venga per l'appunto sollecitato ad elaborare il provvedimento che dicevo prima per permettere a tutti i papà di usufruire di questi giorni di congedo grazie Presidente grazie grazie consigliere Saggesi aperta la discussione generale previ colleghi che intendono intervenire di prenotarsi non vedo richieste di intervento chiesto di intervenire consigliere Carra nella facoltà grazie Presidente noi siamo assolutamente d'accordo con con il contenuto di questa di questa mozione anche se non per colpa del presentatore è tardiva perché è vero che questa norma sulla maternità è in vigore a titolo sperimentale dal 2013 al 2015 qui era stata datata primo agosto 2013 quindi sarebbe stato opportuno discuterla alla ripresa dei lavori nel 2013 siamo nel 2015 la sperimentazione terminerà proprio quest'anno ciò non significa che il contenuto non sia non sia condivisibile anche se e qui anch'io mi riporto alla mozione che si è discussa prima qui si parla di padre madre all'interno di una coppia non si parla di coniugi non si parla di famiglia come si voleva intendere prima la norma quindi parla di un tipo di famiglia se vogliamo tornare al discorso di prima in cui c'è un padre una madre e i figli e il padre ha diritto al congedo di paternità per essere padre e la madre ha diritto al congedo di maternità per essere madre non marito non moglie ma chiudendo la parentesi la cosa fondamentale è che questo significa il fatto che nel pubblico impiego non sia stata non sia entrata in vigore questa norma come diceva giustamente il presentatore una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che lavorano nel settore privato e coloro che lavorano nel settore pubblico quindi invitiamo pure la giunta a farsi promotrice affinché il ministero possa emanare una circolare con la quale vi sia l'applicazione al dipendente pubblico sarebbe interessante anche fare il passaggio successivo rispetto a quello che diceva anche il consigliere Saggese cioè è vero che qui ci sia conformati alla direttiva europea numero 108 del 2010 sulla paternità sulla maternità sui congedi parentali ed è verissimo però tanto più che in Svezia in Norvegia in Francia in Inghilterra negli altri paesi vi è una cultura differente qui era stato dato un giorno quindi un giorno entro i 5 mesi del bambino nel quale obbligatoriamente il padre deve stare ad accudire il bambino mentre in Norvegia per esempio sono 12 settimane questa è la più ampia 20 giorni mi pare in Francia 3 giorni in Inghilterra quindi anche questo sarebbe opportuno quindi opportuno una modifica io credo che sia stato limitato a un giorno come sempre succede in questo paese per limitatezza di risorse però anche qui bisogna sempre capire bene quali sono le priorità e su cosa vogliamo investire grazie chiesto di intervenire la consigliere Santisi Insaita ne ha facoltà grazie presidente mi è piaciuta la sottolineatura del consigliere finisce la sperimentazione vero però resta il problema quindi se nel andamento dei lavori non siamo stati subito pronti a cogliere questo aspetto ma ci sono tante cose che vanno modificate ben venga perché comunque va risolto e anche nelle giornate perché un giorno obbligatorio e due opzionali non risolvono il problema di collaborazione di aiuto quindi l'introduzione sia pure in via sperimentale di questo provvedimento del concetto quindi sia obbligatorio che facoltativo per gli anni 2013-2015 del padre ad opera della legge Fornero ha disposto dichiaratamente leggo al fine di sostenere la genitorialità promuovendo una cultura di maggiore condivisione nei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in effetti tre giorni per questo ruolo e questo obiettivo così alto sono pochi quindi la richiesta potrebbe essere proprio nell'ampliare il numero dei giorni in seguito poi a questa richiesta di chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 4 della comma 24 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni il dipartimento della funzione pubblica nel febbraio del 2013 ha detto e ha ritenuto di precisare come l'indicata normativa non fosse applicabile direttamente ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ragion per cui per loro rimangono validi applicabili esclusivamente gli ordinari istituti disciplinari dalla legge 151 del 2011 e dai contratti collettivi quindi nazionali del comparto ora questa presa di posizione del dipartimento della funzione pubblica non ci ha mai convinto e non ci convince neppure adesso e quindi questo aspetto non solo politicamente non è positivo proprio per il trattamento di una cultura che nella sua promozione non può vedere distinzione di sorta ma anche sotto l'aspetto strettamente tecnico normativo in quanto l'articolo 1 il comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative in maniera in materia proprio di tutela di sostegno della maternità e della paternità fa salve per tutti e sottolineo per tutti le condizioni di maggiore favore stabiliti da ogni altra disposizione e non a caso il decreto ministeriale attuativo del 22 dicembre 2012 nell'individuare l'ambito di applicazione del congedo in oggetto non escludeva il settore pubblico dalla sua applicazione quindi la reputiamo un po' arbitraria questa scelta del resto contrariamente a quando indicato dalla nota del dipartimento della funzione pubblica la quale specificava con il decreto di attuazione che poi si è avuto e previsto dal comma 25 dell'articolo 1 anche dalla legge 92 del 2012 avesse ad oggetto la definizione dei criteri per l'accesso e modalità di utilizzo degli istituti per i lavoratori del settore privato di tale limitazione però settoriale non vi era traccia nel comma in questione come abbiamo anticipato ma neppure nel decreto stesso a volere poi o meglio a dover prendere atto di questa interpretazione restrittiva è più stringente comunque l'emanazione della specifica normativa rimane l'unica speranza per far venire meno il prima possibile una disparità di trattamento non scevra di gravi dubbi di costituzionalità e in netta inspiegabile controtendenza rispetto alla linea di privatizzazione del pubblico impiego allora ancorché questa esclusione appaia essere temporanea è chiaro che già in questo momento si stanno ledendo i diritti dei padri e si stanno sottraendo quindi ai figli dei riferimenti che insieme a quelli della madre sono importantissimi sin dai primi attimi di vita fin dai primi giorni in difesa del principio di genitorialità mi sono incartata e di parità di trattamento fra le varie categorie dei dipendenti la Lega Nord quindi voterà a favore e sostiene questa mozione che è stata illustrata prima grazie grazie mi ha chiesto di intervenire la consigliere Macchi a facoltà io non ho altre richieste in discussione generale quindi poi chiuderò le prenotazioni grazie sì anche noi anticipo già voteremo in modo favorevole anche se riteniamo che questa non sia la soluzione a quelli che sono i problemi di conciliazione casa lavoro da parte dei genitori e su questo sono d'accordo col consigliere Carra sul fatto che bisogna parlare di genitori qui di padre e di madre che devono avere la possibilità di seguire bene i loro figli pur lavorando non sono però quel giorno o quei due giorni che possono cambiare quello che è una difficoltà di conciliare gli orari lavorativi con gli orari dei bambini che poverini vengono spostati tante volte come dei pacchi da scuole asili a nonni a babysitter amiche eccetera eccetera ma quello che potrebbe essere il recepimento che è stato fatto della direttiva europea 18 del 2010 che è già stata citata e quindi il congedo parentale ad ore questo potrebbe essere veramente anche questo sta scadendo perché è sperimentale per tre anni quindi 2013 14 e 15 e nel decreto legge numero 216 dell'11 dicembre 2012 viene detto disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea questo lo trovo veramente vergognoso nel senso che se noi facciamo delle leggi finte adesso vi spiegherò perché sono delle leggi finte e cioè perché questa è una legge finta e poi non la applichiamo allora a quel punto possiamo anche fare a meno di fare delle leggi solo per evitare le sanzioni è stato aggiunto un comma 1 bis che dice la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo quello parentale di cui al comma 1 su base oraria che cosa vuol dire nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di determinato monte ora la singola giornata lavorativa che cosa vuol dire che i genitori padre e madre i genitori possono in base a questa legge che non è stata applicata adesso vi dico perché chiedere congedi orari quindi se io in una giornata ho bisogno di ore per andare ad accudire mio figlio per prendermi dei congedi li posso prendere a ore vengono poi sommate logicamente e diventano giorni di congedo ma che cosa è successo che questa normativa che appunto è un recepimento di una direttiva europea e saremmo stati sanzionati se non l'avessimo fatta doveva essere regolata dai contratti collettivi di lavoro che anche nel caso dei dipendenti pubblici sono bloccati qua in regione Lombardia mi dicono da 7-8 anni quindi questa normativa in effetti realmente non è stata non è stata recepita non è stata applicata è stata recepita ma non è stata applicata e questo è uno dei tanti casi quindi quando parliamo di aiutare la conciliazione casa lavoro di fare delle leggi che veramente realmente possano aiutare i genitori ad accudire meglio a portarci a un livello di apertura e di innovazione pari a quella dei nostri colleghi europei beh in Italia facciamo solo finta ora auspico che in regione Lombardia in futuro venga tenuto conto di queste che sono delle normative europee appunto una direttiva europea e che quindi almeno noi in futuro colgo l'occasione appunto di questa di questa mozione possiamo recepire questo questo permesso visto che questi permessi parentali ad ore visto che appunto nel documento che che è stato fatto il 18 gennaio del 2013 è invece specificato i permessi non possono essere frazionati ad ore quindi speriamo che in un futuro venga invece recepita questa necessità vera e propria che quindi non sia obbligatorio nel caso io abbia bisogno come madre o come padre di due ore per mio figlio dover prendere invece la giornata intera o la mezza giornata perché così appunto non si aiuta una buona gestione della genitorialità grazie grazie non ho altri interventi in discussione generale pertanto chiedo se ci sono interventi di dichiarazione di voto di prenotarsi adesso alcuni hanno già annunciato il voto negli interventi di discussione generale non vedo richieste di intervento in dichiarazione di voto pertanto procediamo con la votazione pongo in votazione la mozione numero 91 congedo di paternità per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni primo firmatario il consigliere saggese per alzata di mano favorevoli contrari astenuti il consiglio approva l'unanimità passiamo ora alla mozione 252 revisione e sospensione degli effetti della dgr nono 2735 del 22 dicembre 2011 determinazione in ordine all'utilizzo dei fondi resi disponibili al fondo di rietrazione ex legge regionale 11 2001 primo firmatario la consigliere carcano che ha facoltà di illustrare il contenuto per 10 minuti grazie presidente allora con questa mozione interveniamo in merito a una delibera di giunta del 2011 la 2735 questa delibera stanza dei fondi in merito ad alcuni istituti ospedalieri in particolare in merito alla città della salute della ricerca di milano in merito all'ampliamento e alla ristrutturazione del nuovo ospedale San Gerardo di Monza in merito anche ad altri ospedali e all'installazione di un sistema di tecnologia di avanguardia nell'ospedale di Cremona gli importi che stanzia questa delibera sono di diverso genere 300 milioni per la città della salute e via via per altri visto che per questi istituti ci sono delle inchieste giudiziarie aperte e pendenti e visto anche che siamo ancora in attesa di ricevere una risposta alla nostra interrogazione dell'aprile dell'anno scorso che riguardava l'azienda ospedaliera di Cremona e in particolar modo riguardava degli accertamenti per l'appalto per l'installazione di Vero che è un apparecchio per la diagnostica tumorale allora chiediamo con questa mozione di procedere alla sospensione o comunque alla riscrittura alla revisione della delibera stessa in merito a questi tre casi quindi alla città della salute all'azienda ospedaliera di Cremona e al San Gerardo di Monza grazie grazie consigliere Carca non è aperta la discussione generale prego l'aula per cortesia di mantenere un clima di lavoro chiesto di intervenire il consigliere Fanetti nella facoltà grazie presidente parto a introdurre su questa mozione dal considerato esattamente il comma B e leggo quanto riporta il quadro emerso dalla lettura delle ordinanze di rinvio a giudizio può quasi sicuramente far temere che questi interventi siano stati dettati non da reali necessità ma da pressioni dettate ad attivare in propri finanziamenti di fonte pubbliche più precisamente della regione Lombardia io penso che un atteggiamento un'affermazione di questo tipo sia da respingere sia da respingere perché se uno effettivamente legge la delibera appena citata dalla presentatrice della mozione può effettivamente constatare che gli interventi fissati ai fini dell'adeguamento degli istituti ospedalieri e per l'adeguamento delle attrezzature mediche prevede due piani il piano regionale di sviluppo e il piano sociosanitario regionale quindi due documenti che passano attraverso il vaglio del consiglio regionale quindi questo atteggiamento di voler far sembrare che ci siano situazioni secondo me distorte per quanto riguarda l'acquisto e per quanto riguarda l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli ospedali delle strutture ospedaliere regionali penso che veramente questo non vada a beneficio per la regione stessa è vero alcune persone del Sireg sono state sottoposte a delle indagini giudiziarie ma è chiaro anche che non può regione Lombardia oggi rettificare o annullare una delibera fatta che prevede l'allocazione di fondi per questi interventi bensì intervengano gli organi deputati eventualmente a sospendere questi aspetti contrattuali perché ben si sa che se un contratto è stato firmato magari si possono anche pagare delle penali e di conseguenza portare un danno sicuramente superiore a quello che può essere l'aspetto regionale invece che creare un'utilità poi leggendo bene la delibera citata si può vedere che il primo progetto città della salute in contestazione è nato da un accordo sottoscritto tra regione Lombardia e ministero della salute il secondo il secondo in contestazione idem è nato da interventi richiesti lo stesso dispositivo richiesto a Cremona è nato da un'esigenza e da una richiesta quindi veramente io respingo l'atteggiamento che si può diciamo assumere leggendo quel comma del considerato che vi ho letto all'inizio chiaramente se ci sono delle situazioni regione Lombardia penso particolari regione Lombardia sarà attenta sarà attenta anche ai fini del fatto che non venga lesa nella sua immagine nell'aspetto quindi anche economico erariale eventualmente si costituirà in merito ma ritengo che e poi mi avvio alla conclusione che oggi non si possa sicuramente revocare o chiedere a regione Lombardia la revoca di un documento di questo tipo che potrebbe portare effettivamente a un danno superiore del risultato che si vuole ottenere ma stigmatizzo anche l'atteggiamento del fatto di pensare che si vogliano costruire interventi e finanziamenti appositi per poi andare a comprare acquistare intervenire su istituti ma bensì questo viene fatto sulla base di un piano di piani di rilievo e quindi di cose effettivamente richieste e necessarie perché ben pensate a un aspetto l'adeguamento sismico è un altro aspetto cogente importante che viene citato all'interno di questa delibera grazie grazie sono iscritti i colleghi Rolfi chiedo scusa Carugo Rolfi Girelli e Baroni che avranno la parola in questo ordine la parola al consigliere Carugo grazie presidente consigliera Carcano consigliere presidente sono mi ascolti bene abbastanza contrario perché ma dovremmo chiedere ai colleghi ai operatori della città della salute se sono d'accordo nel revocare gli togli 300 milioni di euro dovremmo chiedere a San Gerardo di Monza che come lei conosce bene è un grande cantiere in progress togliere 16 milioni di euro quali possono essere gli effetti dovremmo chiedere all'ospedale di Cremona per gli 8 milioni gli 800 mila euro per l'ospedale di Chiari eccetera 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 ma insomma anche dal punto di vista pratico per il benessere i tre ma io ho citato tutti perché lei l'ha citato tutti però per il bene dei nostri cittadini e dei nostri enti che sono interessati quale può essere il beneficio di revocare anche perché non credo proprio che si possa fare peraltro di revocare i finanziamenti è giusto controllare è giusto porre in essere tutte le misure appunto per ogni tipo di controllo la magistratura fa sta facendo e farà come ha sempre fatto i propri controlli ma sostenere sostanzialmente come lei dice impegna la giunta di procedere alla sospensione o alla revisione della delibera mi sembra un atto non solo non fattibile ma anche abbastanza dannoso anche per quegli enti che dovrebbero essere diciamo soggetti a tale normativa quindi consigliere Carcaro mi spiace perché sarà poi inuto per lei una particolare simpatia il gruppo nuovo centrodestra porterà contro convintamente a questa sua mozione grazie consigliere Carugo a chiesto di intervenire il consigliere Rolfi e a facoltà grazie presidente anche per quanto riguarda il gruppo della Lega Nord molto brevemente vi è una posizione di contrarietà al contenuto di questa mozione perché ha a che fare con una delibera appunto che stanziava ben 348 milioni di euro per tutta una serie di investimenti elencati anche nella mozione stessa che anche per quanto ci riguarda nascono da esigenze del territorio conosco in particolar modo quello di Chiari e posso ricordare e ricordare appunto all'aula che nasce da una esigenza evidente strutturale proprio dell'ospedale nessuno si l'ha inventato o fatto presso l'intersenso tra l'altro della mozione fa riferimento a indagini in corso per definizione indagini in corso non sono accuse conclamate o accertate ma sono indagini in corso che devono appunto terminare per verificare effettivamente l'esistenza di reati e di eventuali responsabilità fa riferimento usando il condizionale a procedure attivate dalla Corte dei Conti quindi senza nessun elemento di certezza definitiva io credo che noi crediamo che bloccare e revocare quindi investimenti così significativi bloccare cantieri che sono in corso sicuramente non farebbe l'interesse della sanità lombarda e l'interesse anche dei tanti pazienti lombardi che fruiscono in questi ospedali e necessitano di servizi sempre più di qualità pertanto dal nostro punto di vista vi è un voto anticipo di creazione di voto che sarà senz'altro convintamente contrario grazie consigliere Rolfi la parola consigliere Girelli ecco grazie grazie presidente è in dubbio che la mozione presentata dalla collega Carcano e da altri pone in evidenza alcune criticità che ai messi sono manifestate nella gestione di alcune risorse pubbliche di regione Lombardia criticità che sono appunto l'attenzione della magistratura in parte della Corte dei Conti e credo che dovranno dirci eventuali responsabilità e anche procedere a individuare chiaramente i colpevoli i sanzionali come giusto che sia così come credo che la vicenda del Sire che quant'altro sia stato oggetto anche di e debba essere oggetto di grande riflessione sempre per regione Lombardia su che strumenti attuare nei piani anticorruzione piuttosto che in altre azioni siccome prevenire di impedire che situazioni di questo genere possano in futuro ecco ripetersi il fatto però che con la mozione si voglia andare di fatto a sospendere dei finanziamenti e di interventi che a nostro giudizio hanno invece una loro importanza credo che sia una risposta sbagliata di un problema vero perché vorrei ricordare che il fondo di rotazione è stato uno strumento di particolare validità attuato da Regione Lombardia soprattutto in periodo in cui in governi questo concedetemi di centrodestra avevano tagliato completamente risorse alle strutture ospedaliere pubbliche il fondo di rotazione è stato uno strumento molto intelligente per comunque intervenire sugli ospedali lombardi e poter dare delle risposte ai bisogni dei cittadini e le aziende appunto sanitarie presenti sul nostro territorio fondo che oltretutto vorrei ricordarlo è un prestito perché di fatto sono soldi che vengono erogati ma che poi vengono restituiti a Regione stessa e si autoalimenta in un circuito virtuoso che quindi è e rimane a mio parere uno strumento sicuramente valido chiaro che quindi il voto del nostro gruppo è un voto di contrarietà che però ripeto non deve far venire meno l'attenzione a quanto evidenziato confidando nel lavoro della magistratura ma confidando anche con la sempre maggior capacità di Regione Lombardia adettuare al proprio interno forme di autocontrollo per impedire appunto che avvengano fatti poco chiari si diano avvio a procedimenti che poi implicano chiaramente momenti di opacità di non chiarezza o qualche volta anche di palese illegalità come purtroppo più di una volta abbiamo assistito grazie ha chiesto di intervenire la consigliere Baroni ne ha facoltà presidente grazie io credo che siano nel merito di questa mozione come argomenti credo che i colleghi che mi hanno preceduto abbiano sviscerato bene le tematiche per le quali molte forze politiche di quest'aula voteranno contro questa mozione io mi vorrei soffermare su un unico punto non credo che la collega abbia presentato questa mozione pensando realmente che avrebbe mai potuto avere un voto della maggioranza di questa aula credo che invece la mozione sia stata presentata soddisfacendo uno dei temi cari al movimento politico 5 stelle e cioè di essere censore dei pessimi costumi altrui censore della politica e di suscitare un interesse di riportare alla ribalta un tema che riguarda quello delle indagini in corso è evidente che tutte le considerazioni che hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto invece nel merito individuano correttamente i temi e cioè il grave danno il documento che verrebbe alla nostra regione dalla sospensione delle opere pubbliche che sono così importanti per il mantenimento dell'eccellenza della nostra sanità e credo anche che questo voto che sarà sicuramente favorevole abbia la funzione di con buona pace del movimento 5 stelle privilegiare quelli che sono gli aspetti sostanziali e veramente concreti della azione della pubblica amministrazione in questo caso della regione Lombardia che sono a favore della sua collettività una collettività per la quale io mi sento come consigliere regionale di non avere una funzione principale di essere censore o controllore credo che la mia sia invece una funzione propulsiva cioè di spinta di costruttività e di proposta e di proposizione positiva credo anche che le azioni a tutela giustamente del rigore e della correttezza e legittimità dell'azione amministrativa che sono state poste in essere l'insinuazione al passivo del fallimento da parte dell'interregione del fallimento delle società che sono fallite in corso di lavori e altre azioni di cautela e di tutela a favore della popolazione Lombarda credo che ampiamente rassicurino me personalmente e tutti i cittadini Lombardi della bontà di queste opere e del fatto che dal loro compimento non potrà arrivarne che un beneficio alle popolazioni di questa regione grazie grazie consigliere Baroni per la giunta non essendoci altri interventi dei consiglieri chiesto di intervenire l'assessore Mantovani nella facoltà sì grazie presidente stiamo parlando della delibera della giunta regionale del 2011 un primo provvedimento della legge regionale 11 2011 che finalizzava le risorse del fondo di rotazione per gli interventi ritenuti strategici nell'ambito degli indirizzi regionali il fondo di rotazione ammontava per il 2011 a 348 milioni di euro che sono stati quasi integralmente destinati a progetti di rilevanza regionale sia dal punto di vista dell'avanzamento e del completamento degli interventi inseriti negli accordi di programma per la realizzazione di buono strutture e la riqualificazione generale di interi presidi fra i sette interventi compresi nella citata DGR rientrano i tre oggetto della mozione rispetto a questi ultimi vanno dettagliate in modo puntuale le diverse fasi attuative già espletate quelle in corso di esecuzione nonché quelle future il progetto città della salute è attualmente il più grande intervento di edilizia sanitaria a livello europeo a fronte delle criticità emerse in seguito alle indagini della magistratura regione lombardia ha avviato un percorso virtuoso di verifica dei procedimenti con l'autorità nazionale anticorruzione che ha dato il proprio parere favorevole alla prosecuzione delle procedure di aggiudicazione del progetto proprio a seguito del parere favorevole dell'ANAC attraverso l'associazione nazionale anticorruzione attraverso un metodo innovativo a garanzia della massima trasparenza e con la collaborazione delle istituzioni universitarie è stata costituita la commissione che valuterà le offerte per tale progetto si ritiene pertanto che vi siano tutte le garanzie affinché tale fondamentale intervento venga perseguito nel rispetto dei principi di legalità trasparenza e concorrenza permettendo a regione lombardia non solo di mantenere il ruolo di eccellenza in campo sanitario ma ponendola all'avanguardia anche nello sviluppo di procedure amministrative innovative per quanto attiene l'opera del presidio ospedaliero San Gerardo di Monza va evidenziato che sono attualmente in corso di realizzazione i lavori e pertanto eventuali recessioni contrattuali in essere tra il concessionario e l'azienda ospedaliera andrebbero valutate da quest'ultima in ragione delle potenziali conseguenze negative con aggravio di costi a carico delle risorse pubbliche ne deriva che sono al momento pressoché inesistenti le possibilità di intervento da parte di regione lombardia se non con l'inevitabile appesantimento dei costi e il prolungarsi dei tempi connessi con la riqualificazione che comporterebbe ulteriori disagi all'utenza ai professionisti che lavorano nel presidio va da sé qualora dovessero essere accertate dall'autorità giudiziaria eventuali responsabilità nell'ambito delle inchieste in corso regione lombardia attiverà tutte le azioni a tutela del sistema sanitario regionale con riferimento all'acquisizione dell'apparecchiatura radioterapica vero presso il presidio ospedaliero di cremona va innanzitutto sottolineare che lo stesso è già stato acquistato installato collaudato e messo in funzione nel corso del 2014 nel confermare la necessità che un sistema sanitario avanzato come quello lombardo si doti di apparecchiature tecnologicamente all'avanguardia che non possono essere solo appannaggio delle strutture private si sottolinea che regione lombardia a fronte delle inchieste avviate dalla magistratura ha posto in essere alcune misure a cautela delle risorse pubbliche quali ad esempio la costituzione di parte civile nel processo a carico degli imputati il fermo amministrativo del 25% delle somme stanziate pari a 2 milioni di euro non ancora erogati insinuazione nella procedura fallimentare a carico della società fornitrice e segnalazione alla procura erradiale della Corte dei Conti per ciascuno degli interventi indicati nella mozione si ritiene che senza interrompere il necessario modernamento strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie pubbliche l'attuale giunta abbia posto in essere tutte le azioni affinché vengano salvaguardati gli interessi pubblici e le risorse dei cittadini lombardi in ultimo va sottolineato che i restanti interventi inseriti nella DGR del 2011 sono già stati realizzati oppure sono in via di completamento grazie assessore abbiamo così concluso la discussione generale chiedo i colleghi che intendano intervenire in dichiarazione di voto di prenotarsi adesso ho fatto la consigliere Calcano nella facoltà grazie presidente approfitto subito se no me ne dimentico per la votazione nominale a nome di Corbetta Buffagni Violi Fiasconaro e la sottoscritta aggiungo alcune riflessioni per motivare questa dichiarazione di voto partendo dal fatto che come in risposta alla collega Barone la quale ci accusa di essere come dire dei censori di questioni politiche o di questioni legate agli appalti beh non l'abbiamo scritta noi la storia di regione Lombardia non l'abbiamo scritta a noi la storia della cupola degli appalti che i media hanno girato contro Expo e lungi da me difendere l'Expo ma in realtà il grosso degli scandali riguardava la sanità pubblica la sanità lombarda e non l'abbiamo scritta noi quella storia lì quindi permetteteci di dire che in realtà quando si tratta di grandi opere siamo tutti capaci di fare grandi investimenti che poi immancabilmente cadono nelle mani della magistratura e non è colpa nostra se continuano a saltare fuori inchieste giudiziarie dunque come dire più che accusare chi vi sta dicendo che forse quegli investimenti non devono essere più fatti oggi con le leggi che abbiamo nei confronti di grandi opere di grandi investimenti ma per piccole attività e la sanità pubblica avrebbe davvero tanto bisogno di investimenti più mirati più piccoli piuttosto che grandi appalti come quello del San Gerardo e lo sa il collega Carugo quanto sono affezionata al San Gerardo visto che ci ha fatto nascere tutti i miei figli quindi non è questione di fermare di frenare gli investimenti nei confronti della sanità pubblica ma di gestirli davvero con un occhio differente perché la storia lombarda ci ha insegnato che immancabilmente con le leggi attuali le zone grigie le zone d'ombra quando si fanno grossi investimenti soprattutto in sanità fanno sì che poi scatti la mano della magistratura non solo Assessore Mantovani è vero quello che l'hai detto è vero che c'è stato un intervento dell'ANAC nei confronti della città della salute ma l'ANAC non fa un giudizio di contenuto di merito rispetto all'investimento ma solo di qualità in termini di anticorruzione per quello che è l'ultimo pezzettino del gioco però ripeto c'è in corso tutta un'inchiesta giudiziaria di cui vogliamo sapere come si arriverà alla fine non solo chiedo ancora all'Assessore Mantovani ne approfitto con questa mozione di pensare a quella che è l'eccellenza lombarda di pensare invece per il prossimo futuro come utilizzare gli investimenti lombardi perché ci riempiamo sempre la bocca di questa eccellenza lombarda ma in realtà provate davvero a prenotare nel servizio sanitario regionale pubblico un qualsiasi esame e vedete come la lista d'attesa è davvero inaccettabile per una regione come quella lombarda grazie grazie consigliere Carcano ho chiesto di intervenire il consigliere Fanetti e ne ha facoltà intervengo per dire che la lista Maroni Presidente voterà contro questa mozione per evidenziare i due aspetti che gli appalti pubblici in genere vengono fatti su legge dello Stato quindi penso che bisogna rivolgere allo Stato la richiesta di modificare e semplificare quello che sono gli aspetti normativi riferiti agli appalti pubblici chiaramente che Regione Lombardia attui tutte le misure e contromisure affinché non si verifichino queste situazioni poi rivendico ancora il fatto dell'eccellenza lombarda per quanto riguarda la sanità pubblica e mi riferisco anche al fatto che penso che domani verrà calendarizzata anche in commissione la riforma del sistema sanitario regionale quindi penso che anche questa è un'occasione importante per fare una revisione e magari perché migliorare anche alcuni aspetti che sono già eccellenti e per quanto riguarda anche le liste di attese penso che Regione Lombardia abbia dimostrato anche con gli ambulatori aperti effettivamente come si possono fare purtroppo e meno male abbiamo tanti utenti delle altre regioni che vengono in Lombardia grazie grazie non ho altre richieste di intervento e dichiarazioni di voto pertanto pongo in votazione la mozione 252 revisione e sospensione degli effetti della DGR nono 2735 del 22 dicembre 2011 determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi resi disponibili dal fondo di rotazione ex legge ragionale 11 2001 prima firmataria la consigliere Carcano è stata richiesta la votazione per appello nominale con voto elettronico è aperta la votazione chiudo i consiglieri stanno ancora votando quindi abbiamo ancora 10 secondi guardi non c'è in dubbio il risultato dell'elezione della votazione il consigliere Buffani al trentesimo secondo chiudo presenti 55 votanti 54 favorevoli 9 contrari 45 non mi sembrava così in bilico il risultato di aver bisogno di prolungare la votazione però l'esito è questo il consiglio non approva passiamo alla mozione 195 utilizzo delle edicole lombarde come info poi di Expo 2015 primo firmatario il consigliere Colla che ha facoltà di illustrare il contenuto la tua mozione efficace per promuovere l'esposizione universale che si terrà tra pochi mesi ormai in Lombardia e durante Expo 2015 appunto crediamo sia di fondamentale importanza avere numerosi info point ben radicati e diffusi su tutto il territorio regionale questo per fornire sia i turisti sia i visitatori gli addetti ai lavori tutte le indicazioni e il materiale informativo relativo all'esposizione universale nonché ai tanti eventi e alle manifestazioni adesso collegate l'idea è proprio quella di coinvolgere e di avvalersi di tutto il circuito delle edicole presenti nella nostra regione di tutte le edicole lombarde come punti di informazione e di divulgazione di materiale informativo di questa manifestazione questo porterebbe secondo noi avrebbe due vantaggi due grossi vantaggi il primo è quello da una parte di avere una rete diffusa in maniera capillare su tutto il territorio regionale le edicole lombardia sono diverse migliaia e quindi permetterebbe come dire di arrivare con il nostro materiale informativo quantomeno in tutti i comuni lombardi e potrebbero accedervi anche quelle tante persone che ancora ad oggi purtroppo magari non dispongono di un accesso a internet e dall'altro potrebbe essere visto comunque come un sostegno a una categoria che oggi è comunque colpita un po' dalla crisi economica un po' per la crisi un po' perché per via delle liberalizzazioni nella diffusione dei giornali potrebbe essere comunque un sostegno per portare qualche magari qualche cliente in più a questa categoria il tutto ovviamente deve essere io lo davo per scontato su base volontaria ecco non deve essere una costituzione ma quindi deve essere quantomeno su base volontaria grazie grazie si è aperta la discussione generale ha chiesto intervenire il consigliere Rosati ne ha facoltà sì grazie presidente noi siamo sostanzialmente d'accordo con i contenuti della mozione presentata dal consigliere Colla pensiamo che possa essere utile avvalersi di una rete cappellare di edicole anche dal punto di vista dell'informazione di un contatto con i turisti non solo italiani ma anche stranieri che evidentemente saranno presenti nella nostra regione in occasione dell'Expo siamo d'accordo con questa proposta perché la consideriamo anche un primo punto un punto di partenza rispetto a un intervento che noi pensiamo Regione Lombardia possa e debba fare a sostegno di un settore che purtroppo in questo periodo è particolarmente in crisi appunto che è quello delle edicole molte edicole stanno chiudendo purtroppo non siamo ai primi posti in Europa come paese di grandi lettori e quindi pensiamo che un intervento a sostegno delle edicole anche nell'andare a diversificare i prodotti che vengono commercializzati all'interno delle stesse possa essere sicuramente d'aiuto possa rappresentare un segnale in contotendenza rispetto a una condizione di crisi come questa realtà sta attraversando e quindi vogliamo uspicare e in tal senso ci muoveremo anche all'interno della quarta commissione al fine di poter aprire una riflessione un ragionamento con le altre forze politiche con chi naturalmente prima di tutto ha presentato oggi questa mozione con gli assessori di riferimento al fine di vedere se possiamo dare una mano al settore grazie la ringrazio consigliere Rosati ha chiesto di intervenire il consigliere segretario Maroni ne ha facoltà grazie presidente la crisi economica ha pesato anche sul comparto delle edicole come diceva anche il collega e come sanno tutti solo negli ultimi dieci anni hanno chiuso in Italia 10.000 edicole con la perdita di oltre 20.000 posti di lavoro oltre alla crisi economica dobbiamo mettere in conto anche la digitalizzazione della comunicazione non solo che gli italiani leggono poco che oggi mette a disposizione un'offerta ormai ampia che abbraccia ogni tipologia di pubblicazione un aiuto agli edicolanti lombardi in un periodo di così profonda crisi potrebbe arrivare proprio dall'evento Expo 2015 che rappresentando un'occasione di grande rilevanza per il settore turismo potrebbe certamente portare benefici e vantaggi anche al settore della rivendita di riviste e giornali proprio in occasione dell'esposizione universale graviteranno intorno al polo espositivo circa 20 milioni di turisti visitatori un'occasione per sostenere anche il settore degli edicolanti attribuendogli un ruolo anche come infopoint turistici perché grazie alla loro diffusione capillare sul territorio e alla conseguente vicinanza strategica ai maggiori punti di interesse artistico culturale e storico di Milano potranno servire al meglio tutti coloro che necessiteranno di informazioni e consigli per fruire al meglio del nostro stupendo territorio alla luce di quanto si è qui esposto nell'ottica di sostenere le nostre aziende in crisi crediamo si debbano mettere in campo tutte le sinergie per sostenere l'economia lombarda pertanto dichiaro sindore il voto favorevole della lista Maroni Presidente grazie ringrazio consigliere Maroni ha chiesto intervenire il consigliere Buffagni ne ha facoltà grazie Presidente noi abbiamo chiaramente letto la mozione attentamente e abbiamo già proposto al consigliere Colla una leggera modifica nel senso che noi proponiamo che l'operazione l'impegno sia diverso ovvero di cercare forme di collaborazione su base volontaria delle edicole lombarde cioè nello specifico non deve essere un vincolo ma deve essere una cosa volontaria dove le edicole possano partecipare quindi nel caso in cui venisse accolta questa nostra proposta che se necessario posso fare avere agli uffici rapidamente noi voteremo favorevolmente a questa richiesta di buon senso grazie ringrazio consigliere Buffagni ha chiesto di intervenire il consigliere Busi prego sì brevemente solo per ribadire anche dal nostro punto di vista l'aspetto positivo di questa di questa mozione anche se appunto è già stato rilevato un po' di genericità nel senso che poi dovremmo una volta approvata andare a vedere effettivamente poi che tipologia di materiale informativo viene poi distribuito nelle edicole perché sia effettivamente un materiale a servizio dei cittadini questo potrebbe essere interessante per sostenere appunto un settore che è in grosse difficoltà soltanto nella mia provincia sono circa 800 le edicole quindi dal punto di vista capillare sarebbe interessante come operazione e ovviamente questo ci ridà il senso anche della necessità di fare uno sforzo ulteriore da parte di coloro che stanno operando per Expo per far conoscere ancora di più questo avvenimento che ricordo parte fra pochissimi mesi e devo dire che le informazioni non sono ancora ben precise a parte chi ci sta lavorando e gli addetti ai lavori quindi io penso che con questa iniziativa nelle edicole bisognerebbe proprio fare un'iniziativa capillare per spiegare ai cittadini di cosa si tratta e l'avvenimento di Expo di che cosa si tratta che parte il primo di maggio secondo me dovremmo poi capire bene appunto la tipologia di materiali che devono essere diciamo così forniti in queste edicole considerando che ormai le edicole non sono più comunque i luoghi maggiori in cui si possono consultare tante informazioni se voi avete presente anche un'edicola anche l'attenzione di chi ci va spesso è distratta perché non è che si possa valutare tutto quindi eviteremo eventualmente anche a fare un aggiornamento su altri punti altri info point interessanti che possono essere previo contatto utilizzati per far conoscere ulteriormente le proposte di Expo quindi interessante iniziativa delle edicole potrebbe essere da proseguire con altri punti pubblici in cui i cittadini vengono frequentati grazie la ringrazio consigliere Busi ha chiesto di intervenire il consigliere Colla per accettare per le modifiche eventuali prego sì grazie presidente sì semplicemente per rispondere al collega Buffagni accettiamo le sue le sue richieste quindi si chiede di sostituire dopo il chiede togliere di avvalersi del circuito dell'edicole Lombarde sostituendolo di cercare forme di collaborazione su base volontaria dell'edicole Lombarde lo davo per scontato però è meglio specificarlo almeno insomma non si obbliga a nessuno grazie quindi poi prosegue come punti di informazione e divulgazione giusto i proponenti consigliere Colla Buffagni prosegue poi il periodo dicendo come punti di informazione e divulgazione e rimane in vita il presidente la giunta ok consigliere Buffagni ha chiesto di intervenire poi dopo allora per la giunta chiesto di intervenire l'assessore Sala nella facoltà grazie presidente e grazie anche ai presentatori della mozione un breve intervento il mio per dare il parere favorevole ma anche per dire che di questo tema ne abbiamo parlato la giunta lo condivide devo dirvi anche che a livello se si chiama informale la telefonata o l'incontro con la società chiamiamolo informale ma a livello informale ne abbiamo parlato con la società ne abbiamo parlato con il management abbiamo detto che la regione Lombardia ha questo indirizzo che informalmente ci veniva anche dalle forze politiche di maggioranza non solo di coinvolgere l'edicole in una sorta di promozione per chiaramente un ritorno positivo di entrambi da parte di Expo e dall'altra anche delle singole edicole so che dalle informazioni la società aveva già contattato non so se è già arrivata degli incontri con i rappresentanti di categoria delle associazioni degli edicolanti e cosa succede dopo l'approvazione di questa mozione che tutto diventa chiaramente formale avvalorato da un consiglio regionale quindi mi farò partecipo in prima persona promotore pardon in prima persona insieme al presidente quindi di scrivere direttamente alla società Expo e di chiedere quindi il ritorno riguardo a questa iniziativa che reputiamo estremamente valida anche come giunta grazie la ringrazio Assessore Sala per dichiarazioni di voto sono aperte ho due in dichiarazione di voto due consiglieri iscritti consigliere Rosati prego prima dico che nonostante le modifiche che sono state accolte dal presentatore della mozione e proposte da Buffagni il Partito Democratico voterà comunque a favore grazie la ringrazio consigliere Rosati consigliere Buffagni sono contento che il consigliere Rosati voti favorevolmente perché probabilmente non aveva pensato a questa ipotesi sono contento che accolga la proposta accolgo l'occasione per chiedere il voto per appello nominale elettronico a nome mio del collega Corbetta Macchi Nanni Carcano grazie la ringrazio consigliere Buffagni siamo quindi in sede di votazione per appello nominale della mozione 195 primo firmatario il consigliere Colla apro la votazione la votazione è chiusa favorevoli 54 il consiglio approva passiamo ora alla discussione della mozione numero 314 prima firmatario il consigliere Nanni che ha facoltà di presentare il testo della mozione prego grazie presidente dunque questa mozione fa seguito ad una precedente mozione che presentamo l'anno scorso relativa al sito dell'ex fibronit di Broni che è un sito di interesse nazionale e è un sito presso il quale esiste un'emergenza sanitaria e una situazione drammatica concernente un numero elevatissimo e tragico di morti da malattie asbesto correlate in quella mozione noi già proponemmo alla giunta di provvedere a redigere linee guida e comunque un programma sanitario che andasse incontro ai cittadini che sono stati esposti all'amianto negli scorsi anni ma anche ai cittadini lombardi che a tutt'oggi sono esposti all'amianto e agli agenti patogeni che provocano questa malattia purtroppo mortale per la quale non c'è alcuno scampo dargli quindi la possibilità di poter accedere agli esami diagnostici con esenzioni dai ticket il 12 febbraio 2013 il coordinamento nazionale degli ex esposti e delle vittime dell'amianto è stato ricevuto a Roma dai dirigenti del Ministero della Salute proprio per affrontare questa tematica dell'esenzione dai ticket per gli ex esposti all'amianto e i malati di patologie asbesto correlate nella mozione faccio riferimento al disposto anche di una legge regionale la legge regionale lombarda del 29 settembre 2003 numero 17 la quale prevede che la regione promuove politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti colpiti da malattie asbesto correlate e prevede anche che sia istituito un fondo per le politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti colpiti da malattie asbesto correlate inoltre la giunta regionale deve individuare le aree di criticità nelle quali è accertata un'incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate utilizzando registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto ecco questo sulla carta dobbiamo insieme perché io credo che ci sia una fortissima sensibilità trasversale di tutte le forze politiche su questa gravissima tematica dell'amianto peraltro assurda alle cronache in questi mesi con le vicende drammatiche delle vittime dell'amianto in questo paese la Lombardia non è esente esiste il sito di interesse nazionale a Broni ma esistono anche altre realtà in regione Lombardia e noi dobbiamo operare in direzione di tutelare questi cittadini esposti all'amianto abbiamo preso in considerazione anche la lettera firmata dal sindaco di Broni da tutte le forze politiche dei gruppi consigliari del consiglio comunale di Broni nonché dalle associazioni ambientaliste questa lettera fu inviata il 22 settembre scorso è pervenuta a tutti noi il 6 ottobre 2014 e chiede che i ministeri competenti finanzino le opere di bonifica smaltimento emesse in sicurezza che ad oggi sono ancora incomplete a distanza di anni o addirittura in alcuni casi non ancora iniziate inoltre abbiamo citato le firme della petizione popolare dei cittadini di Broni e cittadini lombardi che avanzano la medesima richiesta di messa in sicurezza del sindi di Broni ma anche la tematica dell'accesso esente da ticket al sistema sanitario regionale per la prevenzione e cura delle malattie a svesto correlate per i cittadini di Broni e per i cittadini lombardi abbiamo preso in considerazione una regione nostra vicina di casa che è la regione Veneto dove che è dello stesso colore di questa regione dove c'è uno stato di avanzamento nella tutela sanitaria di questi esposti che vorremmo che regione Lombardia prendesse a modello e traducesse al più presto infatti quindi noi con questa mozione chiedo l'attenzione delle assessori competenti se è possibile l'assessore Mantovani e l'assessore terzi perché sono arrivata al punto ecco consigliere altitonante non mi distraga gli assessori proprio in questo momento noi non chiediamo che da domani ci sia l'esenzione dei ticket perché c'è da fare un lavoro c'è da fare una programmazione sanitaria quindi noi chiediamo con questa mozione l'impegno della giunta quindi un impegno nei fatti a partire con attraverso i vostri strumenti competenze e disposizione un programma sanitario che garantisca sia per i cittadini attualmente esposti all'amianto in Lombardia sia per i cittadini che negli scorsi anni sono stati esposti l'accesso gratuito per gli esami diagnostici e le prestazioni sanitarie per le cure delle patologie asbesto correlate proprio in ottemperanza della legge regionale e dei passaggi che vi ho citato prima ora quando discutemmo la mozione precedente e introdussi questo impegno per la giunta mi fu detto dagli assessori competenti ma anche dai referenti dei gruppi politici con i quali ci siamo interfacciati che c'era una seria volontà politica di affrontare questo problema ripeto iniziando con una programmazione sanitaria ora passato più di un anno siamo qui con una mozione specifica e chiediamo l'impegno della giunta a tradurre nei fatti questa volontà politica manifestata a parole più di un anno fa grazie ringrazio consigliere Nanni è aperto il dibattito generale per ora ho due iscritti ad intervenire chiedo ai consiglieri di iscriversi per ora do la parola al consigliere Villani sì grazie presidente ringrazio anche la consigliera Nanni che ha riportato all'interno di questa aula il tema dell'ambianto per quanto riguarda questo specifico tema di carattere sanitario che riguarda appunto l'estensione dei ticket e ringrazio anche per il fatto che citando ciò che prevede la legge modificata la legge del 2003 poi modificata con la legge numero 50 approvata il 24 luglio 2012 all'unanimità da questo consiglio regionale ci sono inserite introdotte appunto alcune precise indicazioni per quanto riguarda la formazione di un fondo per quanto riguarda il sostegno di carattere sanitario nei confronti dei cittadini che sono stati colpiti dalle malattie corredate noi siamo fondamentalmente d'accordo con questa risoluzione voteremo a favore di questa risoluzione che si propone di estendere l'esenzione dai ticket anche rispetto alle patologie già interessate a questa esenzione infatti noi sappiamo che l'asbestosi placche pleuriche tumori del polmone e altre malattie tipiche dell'esposizione all'amianto sono già oggetto di esenzione da parte dei ticket da parte della politica regionale rimane appunto di affrontare il problema relativo alle placche pleuriche e io credo che non propongo una modifica alla risoluzione credo che sia da tenere in considerazione questo specifico aspetto se come mi auguro sarà accolta questa risoluzione mi permetto poi di dire che andrebbe estesa la gratuità non solo coloro che ha già in mano una diagnosi conclamata di patologia relativa all'esposizione ma a tutti coloro che sono in contatto sono venuti in contatto con l'amianto e che necessitano di screening sanitari e di monitoraggio naturalmente sono d'accordo con l'impostazione che è stata data anche della risoluzione di individuare le aree e quindi naturalmente tenendo conto di tutte le aree che in regione Lombardia hanno questo tipo di criticità molto pericolosa molto pesante molto forte che naturalmente deve essere affrontata grazie la ringrazio consigliere Villani io ho quattro iscritti in questo momento chiudo le iscrizioni al dibattito generale e lascio la parola al consigliere Magoni grazie presidente mi sembra doveroso fare alcune precisazioni in modo tale da rendere più chiara e completa la trattazione della materia che è oggetto della mozione in area ex fibronit ed ex ecored sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza consistenti nella rimozione di parte delle strutture contenenti amianto con l'eliminazione delle fonti attive di contaminazione è stata avviata la bonifica del sito l'intervento ha interessato la rimozione di circa 800 tonnellate di rifiuti contenenti amianto inoltre le azioni di messa in sicurezza hanno consentito l'isolamento in attesa da rimozione definitiva di circa 85.000 metri quadrati di superfici di materiali contenenti amianto peraltro i risultati dei monitoraggi di fibre di amianto aerodispersi in aria nella città di Broni effettuati da ARPA Lombardia e relativi all'anno 2013 non hanno evidenziato particolari anomalie ciò a dimostrazione dell'efficacia degli interventi avviati pertanto i possibili esposti attualmente all'amianto sono solo i lavoratori che effettuano gli interventi di rimozione tali lavoratori ricevono obbligatoriamente una formazione sulla proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute sulle procedure di emergenza di decontaminazione e di controllo sanitario e i datori di lavoro adottano tutte le misure di sicurezza per contenere al minimo ogni rischio per tali lavoratori sono quindi le aziende che si accollano tutti i costi relativi agli accertamenti sullo stato di salute e controlli sanitari per quanto riguarda invece i lavoratori ex esposti all'amianto iscritti nell'apposito registro mesoteliomi anche Regione Lombardia alla stregua del Veneto ha previsto fin da 2005 e poi regolamentato nel 2009 che i costi economici per la fase di screening sono a carico del sistema sanitario regionale in quanto l'attività di diagnosi precoce e di prevenzione collettiva rientra nei livelli essenziali di assistenza pertanto anche per tali lavoratori non è richiesta alcuna compartecipazione alla spesa sanitaria atteso che ciò che la mozione aspica risulta quindi attuato appare difficile comprendere appieno le richieste contenute nel dispositivo e fiamo pertanto un parere negativo da parte del gruppo Maroni presidente grazie la ringrazio consigliere Magone ha chiesto intervenire consigliere Baroni prego grazie presidente non sono particolarmente non ho delle informazioni tecniche è una materia molto tecnica molto particolare ma per poco che ho potuto informarmi credo che abbia colto nel segno la collega che mi ha preceduto e cioè che molti dei lavoratori che negli anni passati sono stati esposti all'amianto godono già proprio perché è già stata inserita questa patologia questa potenziale patologia nei livelli essenziali assistenziali e posso dire per la mia esperienza personale che nei giorni scorsi in questo periodo ho avuto modo nel mio territorio mantovano di parlare personalmente con dei lavoratori che sono stati che lavoravano in passato in aziende appunto esposte all'amianto e che mi hanno riferito di godere di trattamenti di valutazioni mediche di essere regolarmente chiamati per essere valutati e mi è parso di capire proprio che anche tutte le prestazioni mediche sono a carico del servizio sanitario regionale devo dire devo riferire che la sensazione che ho tratto quella di persone che si sentono protette e che godono di garanzia della tutela della propria salute così come deve essere in un territorio avanzato e civile come quello della regione Lombardia ringrazio consigliere Barone chiese intervenire Presidente Rizzi nella facoltà sì grazie Presidente anch'io sarò estremamente breve mi vado a rifare pressoché integralmente all'intervento della consigliera Magoni che in maniera assolutamente precisa e puntuale ha illustrato quella che è la situazione andando soprattutto a riprendere le due tematiche centrali richieste da questa mozione che riguardano sia i lavoratori che sono venuti a contatto con l'amianto nella fase di lavorazione piuttosto che coloro che con le ditte legate allo smaltimento dello stesso sono esposti a questo particolare rischio ma abbiamo capito perfettamente che esistono già tutta una serie di sistemi di protezione sia dal punto di vista preventivo che anche di limitazione di esenzione della compartecipazione per gli esami legati alla prevenzione su questa categoria di lavoratori aggiungo solo il fatto che per quanto poi riguarda invece coloro che contraggono patologie conseguenti all'inalazione di amianto in tutte le sue forme fino ad arrivare al mesotelioma di cui è già stato citato il registro ovviamente rientrano in un'altra categoria di esenzione per quanto riguarda le patologie in essere che è la cosiddetta esenzione per patologie per cui veramente non riuscendo a comprendere quella che può essere la richiesta di ulteriore atto da parte della giunta contenuta in questa mozione non posso fare altro che anticipare il voto contrario del gruppo della Lega Nord grazie la ringrazio consigliere Rizzi ha chiesto intervenire consigliere Nanni prego dunque qui è stata fatta un po' di confusione intanto prendo atto ma penso solo per vostra disinformazione quindi mi premurerò di spiegare meglio che per voi il problema non esiste cioè voi state dichiarando in aula del consiglio regionale che il problema non esiste non conoscete queste realtà quindi come ha detto la collega Barboni forse se non si conoscono certe realtà è meglio andarci cauti con certe dichiarazioni qui non si è parlato di lavoratori qui si è parlato di cittadini e lo dico anche al consigliere Rizzi e alla consigliera Magoni che sono intervenuti sono cittadini che sono stati esposti all'amianto non necessariamente hanno lavorato in fabbriche di amianto che sono i familiari che sono cittadini che hanno avuto l'unica colpa di essere residenti e quindi esposti ambientalmente a questo agente patogeno mortale in certe aree del nostro territorio lombardo e che signori non ce le hanno queste esenzioni dai ticket per le cure diagnostiche e per lo screening e forse vi sfugge anche un'altra cosa molto importante le previsioni epidemiologiche dicono che l'incidenza delle malattie asbesto correlate avviene nei decenni successivi alle prime esposizioni agli agenti patogeni quindi che si venga a dire in questo consiglio regionale che regione lombardia ha già applicato le tutele non corrisponde al vero ma su questo può rispondere meglio l'assessore alla sanità perché non risulta assolutamente che esposti per esempio nell'area di Broni ci sono persone che oggi a 50 anni scoprono purtroppo di essere colpiti da mesotelioma perché 20 anni prima abitavano lì in quell'area chiedete a queste persone se regione lombardia gli ha dato la possibilità di fare gratis le cure diagnostiche in questi anni quindi è molto importante l'informazione su questo tema perché è una materia molto sensibile è una materia sulla quale abbiamo grosse ferite sul territorio e purtroppo le abbiamo oggi perché se vi informate nell'area di Broni purtroppo i morti continuano a distanza di decenni io chiedo ora sono qui pronta ad ascoltare quanto dirà l'assessore alla sanità però ne avevamo già parlato un anno e mezzo fa avevate già dichiarato una volontà politica ad andare in questo senso allora o mi venite a trovare altre scuse tipo che i soldi non ci sono però non mi venite a raccontare che queste persone sono completamente tutelate da un punto sanitario con esenzione dei ticket dalla regione lombardia perché questo non corrisponde al vero qui stiamo parlando di cittadini che sono stati esposti ambientalmente ripeto perché ho sentito più volte ripetere lavoratori e poi signori è ovvio che quando uno scopre di avere il mesotelioma lo sappiamo bene che ha le esenzioni dei ticket ma noi non vorremmo che si arrivasse a questo vorremmo che queste persone avessero la possibilità di fare prima delle cure diagnostiche prima uno screening sono anche favorevole a introdurre l'esame proposto da collega Villani sulle placche pleuriche ma comunque poi questo sarà compito della giunta nel momento in cui attua attiva questo programma sanitario che vada verso questo obiettivo a delimitare tutte le categorie previste e anche le fasce di popolazione di popolazione che sono state colpite e interessate da questo drammatico fenomeno grazie la ringrazio consigliere Nanni è chiuso il dibattito generale chiesto di intervenire per la giunta il vicepresidente Mantovani ne ha facoltà sì grazie presidente allora col decreto del direttore generale della sanità del 16 maggio 2007 è stato istituito il registro dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto un registro in ogni ASL di regione Lombardia e approvato il protocollo operativo per la sosveglianza sanitaria quest'ultimo è stato attivato presso tutte le ASL lombarde a tutela dei lavoratori e dei loro familiari che hanno in passato svolto attività lavorative in aziende che utilizzavano materiali contenenti amianto l'iscrizione a titolo volontario dei soggetti a tali registri ASL persegue unicamente finalità epidemiologiche e di sorveglianza preventiva e non costituisce in nessun caso un presupposto condizione per rivendicare nei confronti degli enti preposti il riconoscimento di esposizione all'amianto ai fini previdenziali o assicurativi per considerare un soggetto esposto o ex esposto all'amianto e il suo inserimento in classe ad alta o bassa esposizione il decreto citato individua i parametri di intensità alta media o bassa e la frequenza barra il tempo continua lunga continua breve o saltuaria e il tipo o la causa professionale o familiare che a tal fine devono essere considerati sulla base della combinazione di tipo causa di esposizione con le altre caratteristiche si individuano due classi di esposizione la classe A alta esposizione per esposizione professionale alta continua lunga e breve per esposizione professionale media continua lunga e breve poi c'è una classe B che è di bassa esposizione che è prevista in tutti gli altri casi quindi il decreto numero 49 72 del 2007 stabilisce infine che i soggetti ritenuti potenzialmente esposti siano convocati presso le ASL per una dettagliata valutazione dell'esposizione e i lavoratori ritenuti esposti sulla base della relativa classificazione ricevono una preliminare informazione sulla problematica e previo loro consenso vengono inseriti nel registro dei lavoratori esposti o ex esposti della ASL e indirizzati all'unità operativa ospedaliera di medicina del lavoro più vicina per il counseling e per l'eventuale avvio della sorveglianza sanitaria tale protocollo è stato ulteriormente definito con la DGR 67 77 del marzo 2008 e con gli indirizzi operativi di cui alla nota del direttore della salute del 30 12 2009 che ribadisce tra l'altro che i costi per gli screening sono a carico del servizio sanitario regionale in quanto rientranti nei LEA tanto premesso si mette a disposizione naturalmente tutta la documentazione predisposta dal Dipartimento di Prevenzione Medico dell'AS di Pavia relativamente alle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie compresa la sorveglianza sanitaria per i soggetti professionalmente esposti o ex esposti all'amianto e si specifica che tale indicazione valgono a prescindere dalla residenza del soggetto nel comune di Broni quindi valgono in generale per tutta la Lombardia quindi la documentazione comprende anche un'illustrazione del dato aggiornato dell'incidenza e prevalenza dei casi di mesotelioma nel comune di Broni confrontato con quelli in generale della provincia di Pavia La ringrazio Vicepresidente Mantovani ha chiesto di intervenire l'assessore Terzi ne ha facoltà Sì grazie Presidente per una precisazione doverosa io capisco che la mozione insomma è di qualche mese fa vedo che è stata depositata a fine ottobre 2014 l'intervento però della consigliera Nanni è attuale quindi è di oggi e mi dispiace che su questa cosa si sia un po' sorvolato adesso vi spiego esattamente su cosa anche e soprattutto rispetto a una considerazione che ha fatto che non si può non condividere cioè quella per cui alle parole ogni tanto dobbiamo seguire i fatti beh mi pare che quantomeno per quanto riguarda la competenza del mio assessorato alle parole abbiamo fatto seguire i fatti se vero come vero mi risulta che insomma tra Regione Lombardia e Ministero si siano recuperati quei 13 milioni che servono per far partire la bonifica vera e propria quindi insomma devo dire con grazie anche alla collaborazione di quelli che erano i rappresentanti anche di altre forze politiche sul territorio all'alba di dicembre in pochissimo tempo il Ministero ha approvato il progetto in qualche modo predisposto dall'ingegnere Elefanti che è il dirigente della DG Ambiente relativo a una ridistribuzione di quelli che erano i fondi dei vari SIN presenti sul territorio lombardo e di fatto 11 milioni di recupero fondi quindi non di fondi nuovi purtroppo ma di recupero dei fondi e un milione e mezzo messo direttamente invece dalla DG Ambiente a fine dicembre permettono di coprire e quindi nei prossimi mesi di far partire effettivamente la fase 2 che è quella della bonifica e non solo della messa in sicurezza come nel dettaglio ha già precisato prima la consigliere Magoni quindi diamo tutte le notizie diamo soprattutto le notizie positive che sono quelle per cui possiamo la formalizzazione è questione dicono di giorni se non di qualche settimana ma pochissime settimane diamo le notizie positive sembra che a Broni effettivamente si possa partire con la bonifica vera e propria e concludere anche i lavori nei tempi ovviamente previsti che sono anche abbastanza lunghi comprenderete anche il perché ma di fatto questo è la ringrazio Assessore Terzi sono aperte le dichiarazioni di voto non ho iscritti in dichiarazione di voto consigliere Nanni prego sì dunque mi sembra che parliamo due lingue diverse Assessore Mantovani oppure che lei stia un po' ciurlando nel manico perché il focus della mozione è chiaro chiede l'esenzione dei ticket per i cittadini attualmente esposti o ex esposti negli anni scorsi all'amianto per l'accesso alle cure diagnostiche e lo screening con esenzione dai ticket ora lei mi ha fatto una bellissima illustrazione del decreto del direttore generale del 2007 sul registro dei mesoteliomi mi spiace che le preferisca parlare col consigliere Barboni intanto che le rispondo magari sarebbe il caso di ascoltare perché altrimenti a chi parlo consigliere Nanni però non deve rispondere all'assessore ma come non devo rispondere all'assessore è una dichiarazione di voto consigliere Nanni mi sembra anche un atto di grande maleducazione mentre stiamo che stiamo parlando di problematiche relazioni di persone colpite dall'amianto andare a parlare con un collega dietro le quinte mentre io gli sto rispondendo sul punto su quanto lui è intervenuto le chiedo di fare la dichiarazione di voto che rimane a verbale lei dovrebbe anche garantire un comportamento educato io posso chiedere a tutti di dare e prestare attenzione a ciò che sta dichiarando il consigliere Nanni questo lo devo fare guardi il dispetto non lo fa a me né al movimento 5 stelle la mancanza di rispetto è nei confronti di questi cittadini dei quali oggi abbiamo portato la voce in aula del consiglio regionale e cerchiamo di non fare tanti discorsi su stragi tolleranze eccetera quando poi si trattano temi così con questo grado e livello di approssimazione allora qui si mente sapendo di mentire perché lei mi ha illustrato un decreto che parla chiaramente delle categorie che hanno accesso al registro dei mesoteliomi e lo ha detto lei assessore la scelta viene fatta su base volontaria per chi ha lavorato o è entrato in contatto con macchinari per la produzione dell'amianto contenenti amianto e per i loro familiari quindi abbiamo un campo d'azione un campo molto ristretto perché se lei conosce la realtà di Broni sa benissimo che sono stati colpiti da malattie asbesto correlate cittadini che anche non erano familiari di persone colpite da mesotelioma o che non lavoravano presso il sito dell'ex fibronit ora noi siamo qui a chiedere questo un impegno di programmazione sanitaria per garantire queste cure con esenzione dal ticket anche per questi cittadini dando l'onere alla giunta di individuare come di individuare quali classi sulle quali appunto operare e consentire queste cure diagnostiche ma non potete girarci intorno parlandomi dei milioni arrivati per la bonifica benvenga complimenti ottimo risultato ci siamo impegnati tutti lei per prima assessore terzi e glielo riconosco perché sono anni che aspettavamo che partisse la bonifica e che arrivassero i finanziamenti però il focus della mozione non era questo era un impegno a una programmazione sanitaria che andasse verso questo obiettivo perché altrimenti noi da qui facciamo uscire delle falsità andiamo a dire che invece queste persone sono tutelate da un punto di vista sanitario e invece no non è così purtroppo quindi vi assumete la responsabilità della votazione su questa mozione la ringrazio consigliere Nanni giustamente per una questione chiede il numero prego solo per chiedere la votazione per appello nominale a nome mio del capogruppo Fiasconaro collega Carcano Macchi Violi ringrazio consigliere Nanni giustamente prima ha fatto un richiamo all'educazione le chiedo magari nel suo intervento quando ha fatto il passaggio nei confronti dell'assessore di ciurlare nel manico magari di utilizzare altri termini per rendere l'idea magari appunto cerchiamo di usare tutti dei toni in maniera tale da evitare delle polemiche detto ciò c'è la sua richiesta c'è la sua richiesta per appello nominale siamo quindi in votazione apro la votazione sulla mozione 314 è aperta la votazione sulla mozione 314 chiudiamo la votazione favorevoli 23 contrari 33 il consiglio non approva chiesto di intervenire il consigliere colla prego consigliere colla grazie presidente semplicemente perché mi hanno segnalato che risulterebbe dagli statini un mio voto favorevole alla mozione 252 presentata dalla collega carcano voglio dire che è stato un errore e naturalmente il mio voto è assolutamente contrario grazie prendiamo atto della dichiarazione del consigliere colla e la mettiamo a verbale quindi cambio del voto alla mozione 252 passiamo ora alla mozione 328 primo firmatario il presidente Romeo che ha facoltà di presentare il testo della mozione sì grazie presidente ma in modo velocissimo visto che è stata sottoscritta da tutti i gruppi consigliari si tratta di trasferire delle linee elettriche che passano interessano l'area dell'altipiano del comune di Seveso se ne parla a livello locale da tantissimo tempo c'è stato di recente un incontro proprio qua in regione anche con Terna che è la società che deve provvedere a questo trasferimento perché lo faccia ovviamente deve inserire Terna tra le priorità un intervento che riguarda la provincia di Monzebrianza pertanto si è concordato in quella riunione che se già la regione chiedesse a Terna di inserire come priorità questo intervento poi Terna potrebbe da quel punto di vista accelerare le procedure tenete conto che da quando Terna inserisce come priorità l'intervento e lo va a finanziare prima che l'intervento viene fatto passano 5 anni quindi prima lo facciamo meglio è grazie la ringrazio Presidente Romeo è aperta la discussione generale sulla mozione 328 ricordo che è stata firmata anche dai consiglieri Caru Corbetta Brambilla Barzaghi Sala consigliere Barzaghi che ha chiesto di intervenire al termine dell'intervento del consigliere Barzaghi chiuderò le iscrizioni in discussione generale prego consigliere Barzaghi grazie Presidente si aderiamo anche noi a questa mozione perché come ricordava il collega questo intervento è stato richiesto da tantissimi anni da tutte le amministrazioni locali di Seveso perché interessa questa zona particolarmente in particolare questa zona densamente abitata e non risulta appunto che Terna abbia ancora inserito tra le priorità questo intervento anche se a più riprese sono state formulate diverse ipotesi progettuali per il trasferimento delle due linee di elettrodotto che lo ricordiamo appunto sono linee ad altissima tensione e sebbene gli studi condotti in merito siano troppo recenti per poter definire con esattezza gli effetti a lungo termine dell'esposizione continua le radizioni elettromagnetiche in base al principio di precauzione occorrerebbe davvero porre attenzione in ogni caso alla protezione dei cittadini dai rischi di danni causati dall'esposizione ai campi elettromagnetici e questo è possibile solo allontanandoli dalle sorgenti di emissione quindi la società la comunità scientifica e medica sulla questione dell'elettrosmog sono ancora divise però ciò non toglie che debbano essere rispettati tutti i limiti in tema di tutela della salute e il fatto appunto che nella zona di Seveso altopiano siano stati misurati livelli di induzione elettromagnetica molto vicino appunto alla soglia dell'obiettivo di qualità ci induce appunto a sostenere questa mozione e a chiedere alla giunta di proseguire nell'azione di coordinamento dei comuni perché anche i comuni vicini con termini come Cesano e Berlassina si sono già dichiarati favorevoli e hanno già espresso il loro senso allo spostamento e appunto al fine di velocizzare questo iter di trasferimento degli elettrodotti grazie ringrazio consigliere Barzaghi ho solo l'intervento del consigliere Fossati dico chi volesse intervenire lo faccia ora nella richiesta altrimenti con il consigliere Fossati terminiamo il dibattito generale prego consigliere Fossati grazie presidente gentili colleghi le azioni altre a tutelare la salute dei cittadini e aumentare la qualità ambientale della nostra regione non possono che essere ovviamente condivisibili la strada di sgravare da impatti cumulati zone già colpite da critiche ambientali così come la tutela delle zone a parco in contesti fortemente urbanizzati è quella che stiamo perseguendo anche con questo atto come già ben espresso dal relatore ci troviamo in un caso in cui i valori soglia definiti dalla normativa risultano essere quasi superati l'operatore intende provvedere a modificare il trattaccio degli elettrodotti in modo da risolvere la situazione la richiesta di inserire la linea in oggetto tra le priorità di intervento in modo da eliminare la sorgente quanto prima possibile è ovviamente un aspetto fondamentale per quanto detto ovviamente il nostro voto è certamente favorevole grazie la ringrazio consigliere Fossati io non ho più interventi ha chiesto di intervenire l'assessore terzi pregone a facoltà grazie presidente brevemente non vi preoccupate poiché ovviamente condividiamo il contenuto di questa mozione solo alcune informazioni prima di tutto una precisazione che è vero che sono pervenute le deliberazioni di assenso allo spostamento che aveva richiesto Terna già nel insomma qualche anno fa devo dire che ci ha messo un po' anche i comuni a deliberare perché la prima del 2010 l'ultima del 2013 insomma il ritardo in questa cosa mi pare che sia comune ma cercheremo di recuperare Terna ha confermato appunto la disponibilità a prendere in considerazione questo spostamento inserendolo all'interno di una riprogrammazione più generale già all'inizio del 2014 volontà ribadita nel corso di un di un incontro svolto appunto presso la DG Ambiente il 25 settembre del del 2014 in particolare si è impegnata appunto a a sviluppare a realizzare questi interventi di razionalizzazione in sinergia con gli interventi di sviluppo della rete medesima all'interno di tutta la provincia interessata che questa secondo me è fondamentale ha ribadito la sostenibilità economica di questa di questa variante purché venga associata insomma ad altre opere all'interno di questo di questo piano e soprattutto la necessità di aggiornare i tempi appunto di avvio di tutta la procedura infatti nel piano di sviluppo che è del 2011 già approvato dal MISE è previsto appunto un intervento denominato riassetto rete 132 al quale a quanto pare verrebbe associato questo intervento la cosa importante che vi dico che entro marzo 2015 ci sarà la revisione di questo piano e quindi delle sue priorità quindi la mozione direi che è più che tempestiva ovviamente la giunta recepirà il contenuto della mozione della volontà mi pare spero mi immagino unanime del consiglio anche alla luce del fatto che come giustamente il consigliere Romeo il presidente Romeo evidenziava l'intervento è un intervento che già è lungo di suo perché ci vorranno quasi cinque anni per la realizzazione appunto di questo spostamento teniamo tutti presenti che nei cinque anni si dovrà tenere in considerazione che questo è un intervento che è soggetto ovviamente alle norme di via che rientra in quello che è l'ambito del parco delle Groane e che ovviamente c'è anche la correlazione con una SIC quindi è tutto abbastanza complicato insomma per dirvi la richiesta di allontanamento trova ovviamente però e troverà ovviamente una valutazione favorevole anche da parte di per quanto riguarda gli impatti ambientali anche perché considerando relativamente alle considerazioni che ha fatto il consigliere Barzaghi relative comunque al fatto che seppur rientra nei limiti ovviamente l'impatto sarà particolarmente positivo per la popolazione che in qualche modo adesso è esposta invece a queste a queste missioni ovviamente sarà fondamentale individuare un tracciato alternativo che poi invece garantisca la conformità a quelle fasce di rispetto che vabbè tutti ovviamente abbiamo in qualche modo conosciamo quindi un'approvazione un sostegno e senza dubbio un'attivazione da parte della giunta che sarà tempestiva quanto è stata tempestiva quella del consiglio la ringrazio Assessore Terzi dichiarazioni di voto sono aperte sulla 328 ha chiesto di intervenire il consigliere Corbetta ne ha facoltà sì grazie Presidente semplicemente per annunciare il voto favorevole da parte nostra a questa mozione per i motivi che sono già stati dai colleghi esplicitati per ringraziare anche il primo firmatario per averla condivisa per aver chiesto insomma la condivisione anche in sede di firma ai tutti i consiglieri eletti in provincia di Monza e Brianza mi approfitto per chiedere il voto elettronico nominale a nome mio di Violi Carcano Maccabiani e Buffani grazie la ringrazio consigliere Corbetta apriamo quindi la votazione per appello nominale sulla mozione 328 primo firmatario presidente romeo la votazione è aperta dichiaro chiusa la votazione favorevoli 48 il consiglio approva passiamo ora alla mozione 348 primo firmatario il consigliere Bruni che ha facoltà di presentare la mozione prego grazie presidente si tratta di una mozione sottoscritta da quasi tutti i consiglieri regionali bergamaschi ho preso poco fa che agli originali firmatari si è aggiunta la sottoscrizione anche della consigliera Lara Magoni che non aveva a suo tempo potuto sottoscriverla per ragioni di carattere personale l'impegno a presentare questa mozione nasce in un convegno tenutosi sabato 29 novembre presso il municipio di San Pellegrino un convegno indetto da quell'amministrazione comunale che rilanciava per l'ennesima volta la richiesta della riapertura a decenni di distanza della casa da gioco di San Pellegrino Terme da allora ci sono succeduti alcuni eventi nuovi tre esattamente il primo la riapertura nell'ambito ed è una prima realizzazione nell'ambito dell'accordo di programma di cui parlerò tra poco del complesso termale di San Pellegrino Terme e devo dire che queste prime settimane di riapertura la riapertura del 19 dicembre hanno dato un esito assolutamente positivo al di là dello sperato e speriamo che continui così la seconda novità è il fatto che anche alla Camera dei Deputati è stato presentato un ordine del giorno simile a quello che ora è in discussione che è stato ricepito come raccomandazione da parte del Governo esattamente questo avvenuto nella seduta del 22 dicembre scorso terza ed ultima novità in data 30 dicembre il sindaco del comune di San Pellegrino Terme e il sindaco del comune di Taormina altro comune dove storicamente sede di una casa da gioco hanno presentato al ministro dell'interno un'istanza per ottenere in via amministrativa l'autorizzazione alla riapertura delle rispettive case da gioco a sostegno di questa mozione mi sono innanzitutto delle ragioni di carattere territoriale la realtà della Valle Brembana che è una realtà di 43.000 abitanti circa ricordo che quando si è discusso della proposta di legge al Parlamento relativa all'istituzione di una ZES nelle zone di confine di alcune zone della provincia di Varese e di Como con la confusazione elbetica avevo fatto presente come se c'era una zona che meritava invece l'istituzione invece in aggiunta almeno una ZES era proprio la Valle Brembana che è una zona che tradizionalmente ha una forte vocazione turistica in particolare San Pellegrino Termini ma che prima ancora del manifestarsi della crisi e cioè già dal 2003 2004 presenta una drammatica situazione dal punto di vista economico e sociale da ultimo recentemente proprio nei mesi scorsi vi è stato il fallimento di un'ulteriore manifattura storica della Valle la manifattura di Valle Brembana con la perdita di circa 400 posti di lavoro ed è da allora che continua questo trend occupazionale assolutamente preoccupante nel 2007 è stato stipulato un accordo di programma tra Regione Lombardia provincia di Bergamo e Comune di San Pellegrino Terme con il concorso di un operatore privato per il rilancio appunto del complesso termale naturalmente la crisi economica che è subentrata negli anni immediatamente successivi ha portato dei ritardi nella realizzazione dell'accordo di programma e comunque vi sono già stati consistenti investimenti sia pubblici che privati per la realizzazione di questo accordo di programma e dicevo riferivo appunto in apertura del fatto come la riapertura del complesso termale con la realizzazione anche dei nuovi edifici rientra appunto nel quadro di questo accordo di programma ora si tratta di proseguire via in particolare da recuperare il Grand Hotel che è un edificio vi invito a andarlo a vedere se ne avrete l'occasione di grandissimo pregio dal punto di vista architettonico un esempio davvero mirabile di architettura Liberty che è un edificio di proprietà di una società interamente partecipata dal comune di San Pellegrino per il cui recupero occorrono circa 40 milioni di euro l'unica possibilità di recuperarlo almeno in parte è appunto quella di arrivare alla riapertura della casa da gioco quindi la casa da gioco sarebbe un ulteriore tassello in questa operazione complessa difficile ma che apre un po' il cuore alla speranza che è in corso a San Pellegrino Terme e nella Valle Brembana vi è poi ovviamente una considerazione di carattere generale perché stiamo parlando della riapertura di una casa da gioco e qui ci troviamo nel nostro sistema di fronte ad un'ipocrisia gigantesca per cui per quanto riguarda i casino sappiamo che ce ne sono quattro in tutta Italia a Venezia Campione d'Italia San Ben San e San Remo mentre ciascuno di noi ha sotto casa nel bar dove va tutte le mattine a fare colazione dei mini casino con i risultati che questo consiglia più volte denunciato e che ha anche cercato di avversare approvando una legge appunto di lotta alla ludopatia in un sistema normativo che ormai fa acqua da tutte le parti e che davvero appare caratterizzato da una fortissima contraddizione tant'è vero che mi permetto di citare una sentenza del 27 settembre 2012 dalla stessa Corte di Cassazione che ha preso atto che ormai nel nostro sistema non ci si propone di contenere la domanda e l'offerta di gioco ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di preverirne la possibile degenerazione criminale e appunto l'apertura di un casino consente di avere un canale controllabile del gioco d'azzardo molto più di quanto avvenga con l'apertura indiscriminata di Sala e Slot quindi non viene nessuna contraddizione e nella mozione vi è un passaggio che richiama la lotta alla ludopatia appunto con la lotta alla ludopatia perché non si tratta di avversare il gioco d'azzardo ma si tratta di avversare invece la sua dimensione patologica dimensione patologica che si realizza e viene incentivata col diffondersi indiscriminato e incontrollato di punti dove si può giocare appunto sotto casa una casa da gioco è tutt'altro discorso quindi auspico che il consiglio voglia approvare questa mozione che davvero darebbe un ulteriore messaggio di speranza a San Pellegrino e alla Valle Brembana La ringrazio consigliere Bruni io ho sei interventi nel dibattito generale chiedo agli altri consiglieri che volessero intervenire di farlo in questo momento altrimenti dichiaro chiuse le iscrizioni inizio dal consigliere Magoni prego nella facoltà grazie presidente innanzitutto ringrazio il consigliere Bruni per l'esposizione che ha fatto molto molto esaustiva e con grande entusiasmo mi accingo a portare avanti questa mozione che sarebbe un lancio turistico molto importante per le nostre valli bergamasche sicuramente il casino a San Pellegrino è una storia che parte dal 1907 è una struttura a liberti veramente molto bella e come diceva Bruni vale la pena di visitare non voglio andare a ripetere le stesse cose che lui ha già esposto ma voglio portare a conoscenza di una situazione paradossale l'autorizzazione deve essere rilasciata dal ministro degli interni il quale in questo momento si dice negativo a farlo noi oggi chiediamo che il governo si accinga a darci questa autorizzazione ieri sera per puro caso ho sentito Giorgia Meloni che ha parlato di un emendamento presso la legge di stabilità che ve lo riassumo proprio in dieci righe è un emendamento numero 3 4102 presentato dal governo e approvato in commissione bilancio e poi in assemblea è un emendamento che va a modificare l'articolo 3 con modifiche apportate dal 20 al 26 comma questa legge prevede questo emendamento approvato prevede infatti una specie di sanatoria per le migliaia di negozi e di scommesse privi di concessione statale ai quali verrebbe offerta un'opportunità di redenzione nella direzione del circuito ufficiale legale di raccolta di scommesse sostanzialmente i titolari di queste agenzie per la legge illegali pagherebbero una multa più una tassa e diventerebbero tutti gli effetti parte integrante del circuito con il risultato ovvio di recuperare grandi somme finora evase ma con la seguente altrettanto ovvia di legalizzare altre 7.000 sale scommesse questi sono i calcoli della guardia di finanza quindi oggi mi trovo a chiedermi come mai il governo non ci dà questa grande opportunità sappiamo benissimo che la ludopatia che sta combattuto molto bene tramite una legge del mese di ottobre e la regione Lombardia va a tutelare le fragilità fragilità che nascono nei pensionati nei disoccupati nelle casalinghe coloro che hanno più tempo di frequentare bar dove facilmente possono gettare i loro soldi sappiamo benissimo che una casa da gioco un casino è tutelata sotto questi aspetti la stessa provincia i stessi militanti della provincia non potranno accedere al casino quindi già l'avvicinamento di una casa da gioco diventa più difficoltosa proprio a fronte di questo vorrei avvalermi di questo emendamento per far forza sui nostri parlamentari lombardi in sede del governo affinché San Pellegrino possa riportare attraverso il casino una rinascita di tutto il territorio grazie la ringrazio consigliere Magone chiesto di intervenire il consigliere Dotti ne ha facoltà grazie presidente dico da subito che esprimerò voto contrario alla mozione presentata per il rilascio di autorizzazione ministeriale apertura di una nuova casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme e le ragioni sono molteplici primo luogo appare del tutto irragionevole che Regione Lombardia soltanto l'anno scorso abbia preso una posizione di forza per contrastare le ludopatie e oggi invece si trovi favorevole all'apertura di un casino magnificando così gli sforzi fatti è vero che la proposta di legge si basava soprattutto sulla regolamentazione delle macchinette mangiasoldi posizionate dentro i bar mentre l'attività di gioco che si svolge nei casinò italiani sottostà a una differente disciplina questo però non vale a giustificare la contraddizione palese di principio tra il contrasto al gioco e l'apertura di un casino ulteriore motivazione è proprio quello che in Lombardia c'è Gian Casinò Casinò di Campione d'Italia e che l'apertura di un secondo comporterebbe inevitabilmente il ridimensionamento del primo con gravissime conseguenze per il territorio comasco del Varesotto e dell'Ecchese da cui provengono i suoi dipendenti oltre che per lo stesso Comune di Campione il cui bilancio si basa esclusivamente sui proventi del Casinò per di più attualmente il Comune di Campione d'Italia si trova in una situazione di disequilibrio finanziario le cause di questa condizione sono addebitabili alla crisi generale alla concorrenza delle slow machine installate ovunque sul territorio nazionale e all'apertura di Casinò in Svizzera situazione di crisi economico-finanziaria che ha comportato anche una riduzione del 25% dell'orario di lavoro dei dipendenti rispetto a quello patruito contrattualmente la tendenza di questo mercato va inevitabilmente verso il ridimensionamento è dello scorso mese di settembre notizia allarmante della possibilità di chiusura anche del Casinò di Venezia e qui oggi cosa viene fatto? Si chiede di aprirne uno nuovo come ho già indicato è evidente che l'apertura di una nuova casa da gioco in Lombardia rappresenterebbe per il Casinò campionese un'ulteriore erosione del proprio bacino d'utenza e la causa di una inevitabile diminuzione dei proenti che avrebbe conseguenze sulla sopravvivenza della società sui posti di lavoro sul finanziamento dell'intero sistema che caratterizza la comunità di campione d'Italia l'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco comporta valutazioni complesse per innumerevoli impatti sociali e una tale decisione non può essere presa così alla leggera sulla base dell'unica giustificazione di emergenza occupazionale il Comune di San Pellegrino Termi insieme al Comune di Taormina chiede al Ministero degli Interni l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco si legge testualmente quale infrastruttura indispensabile per lo sviluppo turistico e occupazionale dei rispettivi territori in un momento di grave difficoltà economica e sociale che caratterizzano i rispettivi ambiti territoriali l'apertura del Casinò di Campione che risale al 1933 si è basata sulla particolare posizione geografica dell'enclave in relazione al contesto socio-economico svizzero in cui è inserita in modo che attraverso l'esercizio del gioco d'azzardo il Comune potesse disporre di adeguati mezzi finanziari per fronteggiare tali particolari condizioni geopolitiche la situazione di disoccupazione e disagio è invece purtroppo comune a molte zone d'Italia in questo periodo e questo non può giustificare una casa da gioco perché questo vorrebbe dire autorizzare l'apertura in ogni area con le medesime problematiche ossia liberalizzare il gioco d'azzardo in Italia possiamo vedere che era stata chiesta dalla Sardegna case da gioco a Cagliari Alghero Olbia Montecatini Anzio Bagni Bagni di Lucca Capri il Comune di Taormina è dal 1960 e la Regione Friuli aveva chiesto anche l'autorizzazione ministeriale emettendo addirittura un decreto regionale concedere a San Pellegrino e non a tutti gli altri l'apertura costituerebbe soltanto una discriminazione ovviamente d'altra parte non possiamo nemmeno consentire il fiorire di case da gioco su tutto il territorio in questo ciò non porterebbe conseguenze ben più gravi dei già elevati danni sociali che stanno provocando la popolazione e le slow machine la cosa è il contrasto al gioco d'azzardo clandestino fenomeno grave ma limitato alla cerchia della malavita per il riciclo di denaro attraverso la regolamentazione altra cosa è per un'istituzione trasmettere il messaggio di facilità al gioco d'azzardo in ogni caso prima di aprire un casino oltre a una disciplina organica della materia andrebbero eliminate tutte le slow machine concludo ribadendo il no deciso e convinto la mozione numero 348 grazie ringrazio consigliere Dotti ha chiesto di intervenire il consigliere Barboni prego grazie presidente io faccio proprie le parole che il collega Bruni ha detto presentando questa mozione non concordo su quanto ha in modo particolare espresso poc'anzi il collega Dotti anche perché non mi pare che sia una questione di concorrenza commerciale l'aprire una sala da Casino a San Pellegrino dove peraltro c'è stata all'inizio del secolo scorso per circa 10 anni poi è stata chiusa ma serve invece fare un'analisi un pochino più profonda io credo che il campione d'Italia abbia tutti i suoi problemi legati al fatto che lì in Svizzera e a pochi chilometri al campione d'Italia abbiano aperto altre sale e questo è un problema loro è un problema della Svizzera o certamente dell'Italia non penso assolutamente che sia la locazione di San Pellegrino a generare questo tipo di problema mentre invece diventa particolarmente importante per quanto riguarda il territorio di Valle Brembana un territorio che da tanti anni sta soffrendo è un territorio che ha avuto insediamenti industriali legati agli anni 50-60 e che oggi proprio perché l'accentramento anche di quelle produzioni si va sempre più spostando verso gli snodi stradali più importanti vede soffrire il suo territorio le sue famiglie i suoi abitanti oltre che vedere ovviamente uno spopolamento della popolazione di montagna dell'Alta Val Brembana Alta Val Brembana che ha una particolare vocazione turistica che il compendio del Casino è certamente un completamento di questa offerta turistica è un'offerta turistica importante sì se vogliamo sapere se vogliamo dire che è così sì è un'offerta turistica importante perché San Pellegrino sede di un brand di acque minerali forse il più famoso nel mondo e forse anche il più utilizzato nel mondo e questo significa anche fare in modo che creare assieme all'ultima apertura che è stata fatta per la verità con grande partecipazione anche di Regione Lombardia tra l'altro Regione Lombardia ha compartecipato allo sviluppo di quell'area in termini di sviluppo economico mettendoci dei finanziamenti all'interno appunto dello sviluppo dell'area termale dello sviluppo dell'area commerciale assieme al Comune di San Pellegrino all'allora provincia di Bergamo e ovviamente ai privati che stanno investendo su quel territorio credo che sia soprattutto importante approfondire e valutare questo tipo di contesto cioè quali apporti positivi il compendio del Casinò può portare in quell'area certamente una vocazione turistica come ho detto prima anche di un certo tipo che completerebbe con questa con l'apertura del Casinò per la verità ricercata da diversi anni e che noi crediamo sarebbe anche ora di dire e dare un parere favorevole all'apertura anche perché non verranno aperti i 20 Casinò e non sono certamente i Casinò e ve lo dice uno che ha seguito dalla prima ora gruppo di lavoro per le ludopatie e c'è stato fino all'ultimo minuto e possiamo assicurare che la gente che frequenta i Casinò non è gente che comunque va in ludopatia o la percentuale è bassissima o addirittura inconsistente per cui non possiamo appaiare le due condizioni un conto è le slot machine le VLT sparse su tutto i territori comunali di tutta la regione di tutta Italia un conto sono i 4 più 1 5 Casinò che ci sarebbero e verrebbero ad esserci in Italia quindi proprio in ragione ed in funzione a dare la possibilità ad un territorio montano con tutti le gravosità e gli impegni che ci sono di vivere su un territorio di montagna dare la possibilità di avere una ulteriore opportunità di creare anche posti di lavoro perché sappiamo benissimo non ne creeremo tanti come a Campione d'Italia anche perché non sarebbe sostenibile una condizione di questo tipo ma creare i posti di lavoro adeguati allo sviluppo di quell'attività è certamente un colpo di mano a quel territorio e ovviamente a quei comuni e a quelle famiglie che su quel territorio gravitano per cui a nome del Partito Democratico che ovviamente dichiara il voto favorevole a questa mozione chiedo al Consiglio regionale intero di davvero riflettere seriamente sulla possibilità e sull'opportunità di avvallare per quel territorio ancora una possibilità di allargamento delle proprie possibilità di lavoro per la propria gente e per il proprio territorio grazie ringrazio consigliere Barbone chiese di intervenire il consigliere Piazza grazie signor Presidente mi sembra di intuire che l'appartenenza territoriale sia un discreto indice per capire il tenore degli interventi a favore e contro quindi potete immaginare che la mia vicinanza territoriale al Casinò di Campione d'Italia mi porterà ad un intervento di carattere contrario ma io credo che la richiesta di fare un nuovo Casinò in Italia che viene dal Consiglio regionale della Lombardia ha davvero un sapore di carattere anacronistico non solo per il percorso che noi abbiamo fatto sulla questione delle ludopatie su cui dirò dopo ma per un motivo semplice che le case da gioco in Italia vanno male tutte i bilanci delle case da gioco in questo paese sono mediamente disastrosi soprattutto negli ultimi due o tre anni e una delle prove provate senza fare riferimento alle difficoltà del Casinò di Campione d'Italia che tuttavia è uno dei Casinò che negli ultimi tre anni ha mantenuto un discreto livello rispetto agli ingressi e rispetto al suo fatturato la più evidente prova è quella del Casinò di Venezia il più importante Casinò d'Italia uno dei più importanti Casinò d'Europa che oggi è in uno stato di sostanziale dissesto e che non ha nemmeno trovato una collocazione nel mondo del privato il Comune di Venezia ha cercato di vendere il Casinò di Venezia ma nessuno ha comprato il Casinò di Venezia ecco questo io credo sia il primo motivo che dovrebbe indurci a una riflessione sul fatto che le case da gioco non funzionano e non funzionando non possono nemmeno essere un buon veicolo per il rilancio turistico di alcune località io ho seguito da vicino la vicenda di San Pellegrino e sono molto lieto del rilancio turistico che sta avvenendo sta avvenendo oltretutto anche proprio con il riferimento all'apertura termali che è stato fatto prima dal consigliere Bruni sta avvenendo anche con un imprinting molto lombardo perché voi sapete che la società di gestione è una società lecchese se vi permettete è una società che gestisce molti termi nel territorio lombardo e anche fuori dal territorio lombardo e che ha portato questo suo know-how a dare davvero un impulso questo sì positivo al rilancio della località di San Pellegrino l'altro elemento è a mio avviso che è vero che la casa da gioco io sono il primo a sostenere questo è sicuramente il luogo di maggior controllo rispetto all'aspetto della ludopatia lo è perché ha degli strumenti e delle capacità che le VLT in questo momento non hanno e che anzi la nostra proposta di legge al Parlamento ha in qualche misura richiamato però dovete anche ricordare che le case da gioco oggi la composizione dei bilanci delle case da gioco sono costituiti all'80% dalle slot machine al casino di Campione d'Italia l'80% degli incassi circa è fatto dalle slot machine che non sono diciamo per così dire un gioco d'azzardo particolarmente qualificato la restante parte viene fatta dai famosi tavoli francesi che sono quelli sì la parte più qualificata del gioco e che sono quelli più legati anche all'aspetto turistico ovvero il turista di un certo tipo che si muove l'esperienza francese in questo senso monegasca è ovviamente emblematica che si muovono per andare a giocare ma non certo le slot machine che hanno un richiamo quasi sempre sull'indotto locale ma vanno a giocare ai tavoli francesi perché questo sì è una dimensione anche di allur del gioco che ha una sua storia e una sua dignità da ultimo ovviamente anch'io mi associo alle parole che sono state dette prima richiamo il fatto che sul nostro territorio c'è una casa da gioco una casa da gioco che in questo momento ha delle difficoltà è una casa da gioco che peraltro sul suo territorio non ha prodotto un grande richiamo turistico anzi lo sforzo che si sta compiendo in questi ultimi anni è in questo senso ma con gravi difficoltà a superare una situazione storica dove davvero il paese l'enclave di campione d'Italia non ha mai avuto un beneficio di carattere turistico dal fatto della presenza della casa da gioco è in una grave difficoltà e evidentemente come consiglio regionale di tutta la Lombardia credo che dobbiamo tenere conto di una situazione e di una richiesta che potrebbe andare ulteriormente a inficiare o peggiorare una situazione che già in questo momento presenta una serie di problematiche che sono legate però in questo caso alla sopravvivenza di un enclave italiano in territorio svizzero che da quella casinò sostanzialmente trae tutta la sua forma di sostentamento per poter vivere in un territorio che ha dei costi e una serie di situazioni che sono particolarmente tra virgolette sfavorevoli pertanto il nostro voto sarà contrario la ringrazio consigliere Piazza chiesto di intervenire il consigliere Anelli grazie presidente beh mi piace far osservare una cosa che oggi qui non abbiamo consiglieri regionali ma mi sembra che ci siano consiglieri provinciali da come difendono il proprio territorio giustificabile però quanto meno anomalo vorrei ricordare innanzitutto che si sta parlando di San Pellegrino Terme e mai come adesso si può dire San Pellegrino Terme grazie che c'è stata l'apertura dicembre di questo complesso termale peraltro mi dicono bellissimo io non ho avuto l'opportunità di poterlo visitare mi dicono bellissimo ma è ovvio che è l'inizio di un grande processo di cui Regione Lombardia partecipe per lo sviluppo di questa bellissima cittadina una cittadina rigogliosa negli anni 70-80 ma purtroppo che come tutte le altre cittadine ha risentito di questa crisi economica ora quando si dice che campione d'Italia è in disgrazi e quant'altro onestamente si dice una falsità perché campione d'Italia oggi ha un mancato incasso rispetto agli incassi precedenti ma non è assolutamente in default che questo sia chiaro che allora ovvio che nell'attimo in cui due anni fa si guadagnava 40 milioni all'anno e oggi se ne guadagnano 30 uno dice in perdita ma non è in perdita è un mancato guadagno che sono due cose completamente diverse vorrei anche dire giusto perché qua c'è stata una grossa preoccupazione qualcuno dice ma abbiamo fatto una legge contro la ludopatia e quindi adesso creando un nuovo casino qua creiamo signori ma allora chiudiamoli tutti i casino compreso il casino d'Italia compreso quello di San Vensano di Venezia li chiudiamo tutti e a questo punto e infatti non è vero ha ragione Barboni quando dice che la percentuale delle persone che frequentano diciamo i casino che poi sono indotti a questa forma di malattia è minimale le statistiche danno circa il 3% di tutti o forse qualcosa meno però siamo alla grandi e allora io dico benvenga e sosteniamo volentieri questa iniziativa che peraltro voglio ricordare questa delibera è un facsimile che la delibera nel gennaio 2013 in consiglio provinciale di Bergamo è stata votata dalla maggioranza di centrodestra che sia chiaro perché il consiglio provinciale a Bergamo il centrodestra ha votato una delibera che è quasi la fotocoppia mi permette il presidente Bruni di dire di quella che è stata proposta oggi e allora secondo noi benvenga il casino benvenga l'investimento che è un investimento importante per la città di San Pellegrino che vede in tutto circa 200 milioni di euro e poi voglio anche ricordare una cosa se proprio più oppio abbiamo questa diciamo diffidenza o problema di possibile ludopatie San Vensan ha fatto una cosa bellissima il casino di San Vensan vedevo ha fatto un accordo quadro con l'asl della regione a Osta la quale tengono monitorati e controllati i cittadini che vanno a che frequentano sistematicamente i casino e da questo punto traggono ovviamente tutte le relative conseguenze addirittura arrivando a impedire ai cittadini di frequentare il casino stesso detto questo quindi ovviamente torno a ripetere siamo in regione ma probabilmente in questo momento ragioniamo da consiglieri provinciali il nostro voto sarà un voto favorevole perché non solo permetterà alla Valbrembana ma all'intera provincia di Bergamo e non solo di poter avere quello sviluppo che San Pellegrino Termo peraltro ha avuto negli anni passati come giustamente ricordavamo già nei primi anni del 1900 e quasi no c'era e la struttura è ancora lì bellissima stile Liberty e speriamo di riaprirla grazie la ringrazio consigliere Anelle chiesto intervenire il consigliere Violi prego sì grazie presidente questa mozione chiede un impegno alla giunta di farsi carico presso il governo per l'apertura o riapertura anche se si tratta di più di un secolo fa della casa gioco di San Pellegrino Terme certo è che sicuramente è un provvedimento che è abbastanza fumo negli occhi per il territorio bergamasco perché i parlamentari bergamaschi si erano già espressi almeno nell'ultimo anno in diversi incontri anche con il sindaco Milesi e si erano presi in impegno di intervenire con degli emendamenti affinché si procedesse ad avviare l'iter per la concessione per poter aprire la casa gioco di San Pellegrino questo non è mai stato fatto è stato fatto poi con un ordine del giorno alla legge di stabilità poco meno di un mese fa dall'onorevole Fontana di Forza Italia ma gli ordini del giorno sappiamo benissimo quanto valgono anzi la mozione stessa cita un ordine del giorno un pronunciamento a Camera dei Deputati del 13 novembre 2008 che dice più o meno la stessa cosa che impegna il governo a valutare opportunità e prevedere un provvedimento legislativo atto e autorizzare l'apertura a casa di gioco di San Pellegrino quindi non credo che sia un elemento aggiuntivo perché se c'è la volontà politica di portare avanti l'apertura della casa di gioco di San Pellegrino non è questa l'aula che deve esprimersi ma è il Parlamento a Roma e abbiamo dieci eletti bergamaschi che potrebbero fare i consiglieri provinciali come diceva il consigliere Anelli in quel caso in Parlamento portare avanti un'istanza che ritengono importante se non fondamentale per il territorio di Valblembana il fatto di farlo qua è sempre un modo di comportarsi alla vorrei ma non posso dove posso faccio finta di niente faccio l'ordine del giorno e poi qua per fare una pagina di giornale domani e dire che i consiglieri dei giornali bergamaschi sostengono la riapertura della casa di gioco di San Pellegrino Terme si fa votare una mozione sapendo benissimo in quest'aula quanto valgono le mozioni facciamo fatica a far rispettare le mozioni che impegnano la giunta su provvedimenti che la giunta stessa è competente e può attuare figuriamoci sulle mozioni che impegnano la giunta ad attivarsi presso il governo quindi che che provvedimento l'importanza e il peso di un provvedimento del genere l'abbiamo visto addirittura sugli ordini del giorno e soluzioni su consigli ad hoc sulle riforme costituzionali che toccavano questo Parlamento stesso quindi questo Consiglio regionale quanto sono state tenute in considerazione e quanto che peso ha una mozione che poi va a Roma quindi l'invito ai miei colleghi che bene o male quasi tutti hanno compagni di partito a Roma se vogliono portare avanti un'istanza del genere lo facciano nelle sedi competenti e lo possono fare in un tempo brevissimo si parlava di inserirlo nello sblocca Italia e lo sblocca Italia non è stato inserito si parlava di inserirlo nella legge stabilità e nella legge stabilità è stato fatto un ordine del giorno quindi a quanto pare la volontà politica laddove ci sono le competenze per portare avanti un provvedimento del genere non c'è e allora interveniamo con un provvedimento in e non me ne voglia il collega Bruni in un Parlamento che quelle competenze non le ha quindi è un intervento decisamente leggero entrando poi nel merito della questione io non sono così convinto che una casa di gioco aiuti e contribuisca a riattivare il turismo in una zona come quella della Valbrembana soltanto vedermi qualcuno mi ha anche anticipato poi nell'intervento i bilanci dei vari casinò e non se la passano assolutamente bene vero è anche che se si volesse fare un provvedimento serio sulle case da gioco ed è vero quello che diceva il consigliere Barboni che nelle case da gioco è più facile controllare i giocatori è più facile controllare anche da dove provengono i soldi perché sappiamo benissimo che spesso le sale a videopoker servono per riciclare il denaro a parte della malavita e delle organizzazioni criminali questo lo sappiamo benissimo e probabilmente facendo poche case da gioco sarebbe più facile controllare la gestione del denaro stesso quindi questo è fuori dubbio ma questo vorrebbe poi un provvedimento sempre carattere di governo nazionale e di Parlamento che sia a 360 gradi allora a quel punto abbiamo visto negli ultimi 3, 4, 10 anni una completa liberalizzazione di videolotteri video slot con jackpot da 200-300 mila euro che quindi hanno aumentato sì la ludopatia anche in un momento di crisi economica e poi adesso chiediamo la deroga per San Pellegrino poi domani lecitamente uscirà un altro territorio che magari ha già avuto storicamente un casino e chiederà giustamente un'altra deroga allora a questo punto chiediamo un provvedimento perché si riordini tutto il sistema del gioco ma credo che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo visto che intenzione c'è da parte del governo di intervenire su quello sono state tagliate le multe di diversi miliardi di euro ai concessionari del gioco diceva prima la consigliera Magoni emendamento legge stabilità e lì emendamento non ordine del giorno per sanare la situazione di tutte quelle sale da gioco tra virgolette clandestine e chissà perché lì c'era la volontà politica e si è fatto un emendamento e per il casino di San Pellegrino si è fatto un ordine del giorno quindi dico se c'è la volontà politica si può fare a Roma facendo attenzione che penso che la sala la sala da gioco più importante più simile per caratteristiche quella di San Pellegrino è quella di Campione d'Italia perché le altre comunque vivono di un turismo loro Sanremo San Vensanto e Venezia e quindi la sala da gioco è un valore aggiunto volendo vedere mentre San Pellegrino si conforma molto al territorio perché rimane una sala da gioco isolata e quindi si rischia di creare poi un sistema di mono economia che abbiamo visto negli ultimi dieci anni ha fallito con licenziamenti contratti di solidarietà buchi dato che poi il casino è comunale di 40 milioni nel 2012 di 50 nel 2013 e quindi io starei attento non sono assolutamente contrario ma starei attento a fare un investimento del genere e a pensare che lo sviluppo di una vallata che ha un turismo che dovrebbe svilupparsi sulla natura sull'agroalimentare che dovrebbe essere valorizzato invece sposti su orientamento sposti gli investimenti su un casino che non credo siano in grado di dare uno sviluppo economico così come qualcuno vuole immaginarsi al territorio della Val Brembana quindi sono questi principalmente i motivi che mi spingono a votare contro questa mozione non perché siamo contrari a una revisione del sistema del gioco non assolutamente qua mi metto le vesti del consigliere provinciale Bergamasco non perché sono contrari a un sistema integrato in Val Brembana dove possa essere previsto anche questo ma perché uno va fatto nelle sedi opportune se si vuole fare la volontà politica dimostra spesso ahimè in negativo che si possono fare i provvedimenti e prenderli anche velocemente e dall'altra parte perché forse il sistema di sviluppo economico della Val Brembana meriterebbe anche delle altre visioni e degli incentivi economici per uno sviluppo agroalimentare del territorio che porterebbe a un turismo più sano e probabilmente anche più duraturo grazie la ringrazio consigliere Violi ultimo intervento in discussione generale quello del consigliere Fermi sottosegretario ne ha facoltà sì grazie presidente intervengo su questa mozione come peraltro fatto già da alcuni colleghi non solo come rappresentante eletto in provincia di Como ma anche perché volevo contribuire nel merito rispetto a quello che gli argomenti che sono stati portati dai firmatari a sostegno di questa mozione parto dalla coda non sono d'accordo il mio voto sarà contrario a questa mozione ma lo è per un ragionamento che non è semplicistico rispetto ad una anche se vogliamo giustificabile e dimostrabile poca coerenza rispetto alla lotta sulle ludopatie perché non mi si venga a dire che nel Casinò non c'è questo problema perché c'è una parte di tavoli da gioco ma c'è una parte amplissima che tra l'altro lo ricordo per chi conosce i numeri del Casinò senza parlare effettivamente conoscendo amplissima dell'incasse del Casinò che arrivano dalle slow machine che sono identiche a quelle che trovano nei bar dove ci sono decine e decine di famiglie che si rovinano e lasciano lo stipendio per cui io comunque ci vedo una incoerenza da parte di questo Consiglio regionale che ha fatto una bella legge una battaglia rispetto al tema della ludopatia se questa battaglia doveva essere finalizzata solo alla distanza di alcune macchinette dalle scuole o dalle chiese penso che potevamo anche fare a meno di farla ma lo dico anche perché c'è un motivo per il quale è stato fatto un Casinò a Campione d'Italia non è che il Casinò a Campione d'Italia è nato perché il Campione d'Italia è un paese più o meno fortunato nell'averlo poi anche qui bisogna capire se è una fortuna o una sfortuna avere un Casinò sul proprio territorio ma per chi non lo sapesse Casinò di Campione d'Italia è un enclave che è totalmente circondata non da valli non da monti per quanto è sfortunato per quanto possa essere una zona come tante altre della nostra regione montana ma è una zona che ha attorno solo la Svizzera questo significa tantissime cose significano questioni economiche importanti significa pagare in franchi significa vivere in un contesto che è assolutamente unico nel territorio nazionale ed è il motivo per cui c'è il Casinò voi dovete sapere che il Comune di Campione d'Italia basa il proprio bilancio che peraltro lo dico che per una diminuzione dei proventi della casa da gioco è in disequilibrio finanziario con un piano autorizzato dalla Corte dei Conti di riequilibrio 2013-2015 perché il Casinò come si diceva poc'anzi vuoi la concorrenza vuoi la concorrenza svizzera perché negli ultimi anni sono stati aperti Casinò a Mendrisio e a Lugano certamente non navigano in ottime acque il Casinò di Campione devo dire dei quattro Casinò italiani è forse quello che grazie ad un piano abbastanza rigido va meglio degli altri ma a Campione il Casinò c'è perché Casinò di Campione d'Italia il Comune di Campione d'Italia è un enclave ricordo a tutti che nel Casinò lavorano di Campione d'Italia qualcosa come 530 dipendenti ricordo tutti che qualora dovessimo pensare a Regione Lombardia di unire alla concorrenza svizzera la concorrenza delle slot machine la concorrenza dei bar anche la concorrenza di un altro Casinò come quello di San Pellegrino vorrebbe dire mettere la parola fine agli sforzi fatti sino ad oggi del Casinò di Campione d'Italia ma poi è una piccola nota di curiosità ma perché pensiamo che portare un Casinò sul territorio sia come dire un vantaggio ma qualcuno ha vissuto conosce la realtà di Campione d'Italia sa cosa significa avere un Casinò sul proprio territorio sa di quale turismo parliamo è così convinto che San Pellegrino Terme il comune di San Pellegrino possa rifiorire grazie ad un Casinò sul proprio territorio io inviterei tutti ad andare di giorno non di sera ma anche di sera a Campione d'Italia a vedere di quale turismo parliamo io non credo che state facendo con questa mozione per quanto poi possa essere più o meno presa in considerazione a Roma un favore a San Pellegrino Terme e a quel punto se e qualora dovesse essere considerato comunque un vantaggio non vedo perché non lo possa essere per Bormio non vedo perché non lo possa essere per Livigno non vedo perché non lo possa essere per tantissime altre realtà credo che alla fine la ragione per cui in Lombardia c'è un Casinò è perché quel Casinò è posizionato in una zona che per sua natura e particolarità è un enclave in Lombardia non ve ne sono altre non sacrifichiamo per una per un campanilismo per quanto possa essere tutto sommato legittimo di territorio il rischio di penalizzare certamente un altro territorio che è il Comune di Campione d'Italia e poi il rischio comunque di pensare di fare un favore ad una realtà territoriale e poi accoggersi dopo qualche anno che probabilmente non sono come dire tutto non sono non è tutto oro quello che luccica grazie ringrazio consigliere Fermi io non ho altri interventi a questo punto siamo in dichiarazione di voto per chi volesse effettuare la dichiarazione di voto abbiamo due iscritti poi chiudo le dichiarazioni di voto prego consigliere Bruni il voto ovviamente sarà favorevole in questo derby Bergamo contro Como e Lecco che si sta creando ma tre considerazioni velocissime la prima la contraddizione tra chi contemporaneamente sostiene l'esigenza di lotta l'autore dell'autopatia e contestualmente sostiene le ragioni di mantenere un monopolio a campioni d'Italia è fin troppo evidente perché ci si debbano spendere parole è una contraddizione assolutamente palese se si volesse essere coerenti bisognerebbe chiedere la soppressione anche del casino di campioni d'Italia se si pensa che le case da gioco incentivino la l'autopatia la seconda considerazione è che le altre case da gioco sopportano tutti il peso della concorrenza straniera tutte quante le quattro case da gioco che ci sono in Italia Sanremo e San Benzano quella francese campioni d'Italia quella svizzera e Venezia quella slovena non è così invece per la posizione di San Pellegrino Terme e nessuno pensa che San Pellegrino Terme trovi la panacea nell'apertura del casino il problema è che il casino va ad aggiungersi a un tassello in più rispetto ad un intervento complessivo su cui la regione Lombardia ha speso milioni di euro e fa parte quindi di una filiera dove il casino costituerebbe un ulteriore elemento di richiamo non sarebbe una come dire un'attrattiva del tutto isolata ma si aggiungerebbe ad un'azione di recupero più complessiva terza e ultima considerazione mi dispiace che non sia in aula c'è il consigliere Violi invito il consigliere Violi a rileggere la mozione perché non è un impegno nei confronti del Presidente della Giunta è un impegno che ci assumiamo noi direttamente e lo mandiamo direttamente al Parlamento e al Governo e la subordinata che è contenuta nella mozione è proprio quella di un'approvazione di una legge che regolamenti di nuovo la materia delle case da gioco quindi alcune sue osservazioni sono già contenute nella mozione dopodiché le sue osservazioni circa l'utilità delle mozioni che vengono fatte in Consiglio regionale hanno assolutamente un senso non a caso più spesso io ho parlato di un mozionificio io però sono qui e faccio quello che posso qui quello che posso qui è presentare una mozione a favore di una battaglia che io ritengo giusta e anche per porre fine a questa ipocrisia per cui ci sono quattro comuni che sono privilegiati rispetto agli altri quindi voto favorevole la ringrazio consigliere Bruni ha chiesto intervenire Presidente Baldini ne ha facoltà grazie Presidente il mio voto sarà favorevole perché penso che sia davvero importante in una realtà come San Pellegrino Terme di creare un'attrattività turistica come quella che è un casino sicuramente un'attrattività turistica che è internazionale San Pellegrino Terme come tanti centri termali hanno sempre avuto il concetto poi del casino perché quando parliamo di persone che devono arrivare in altre parti del mondo richiedono comunque di poter fare qualcosa è chiaro che se guardiamo soltanto quello che si verifica in Lombardia che magari ha 100 km di distanza è un'altra realtà di quella che invece un'attrattività turistica richiede e quindi sono decisamente a favore di questa mozione la ringrazio consigliere Baldini io non ho altri interventi ricordo per dovere di cronaca che il sindaco di San Pellegrino Terme il dottor Milesi aveva scritto una lettera proprio al presidente del consiglio Cattaneo sostenendo nel merito la mozione che oggi è stata presentata e che ora siamo chiamati a votare ha chiesto di intervenire il consigliere Buffagni prego sì per le modalità di voto chiedo il voto elettronico per appello nominale del collega Corbetta Violi Macchi Fiasconaro la ringrazio siamo in sede di votazione apro la votazione sulla mozione la mozione 348 è aperta la votazione chiudo la votazione favorevoli 28 contrari 22 estenuti 1 il consiglio approva la mozione questo abbiamo letto questo abbiamo letto che la Lega non era favoreva la votazione ma no anzi la votata allora proseguiamo l'ordine del giorno colleghi con la proposta di risoluzione numero 25 determinazione in ordine all'attività di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo presentata all'aula della terza commissione relatrice la vicepresidente Valmaggi che ha già presentato alcuni emendamenti che credo siano già stati distribuiti all'aula la parola o comunque sono in fase di distribuzione all'aula la parola per l'illustrazione colleghi la seduta non è terminata consigliere Malvezzi consigliere Callera prego la vicepresidente Valmaggi di illustrare il contenuto della proposta di risoluzione numero 25 grazie grazie presidente come già è stato ricordato questa risoluzione è una risoluzione che ha interessato un confronto anche abbastanza approfondito in terza commissione un confronto sui contenuti che non ha visto quella divisione forte di opinioni che c'è stata invece nel dibattito pubblico l'obiettivo di questa risoluzione che è stata votata a larghissima maggioranza all'interno della commissione era quello non tanto di dare delle indicazioni su alcune scelte che ha fatto Regione Lombardia in ambito alle modalità di applicazioni della fecondazione eterologa nella nostra regione ma invece di concentrarsi sulla necessità di mettere in sicurezza il percorso di donazione degli ovuli e dei gameti e per cui di mettere in sicurezza le coppie che vorranno che potranno accedere alla fecondazione eterologa e diciamo di dare avvio a questo percorso anche in Regione Lombardia ripeto con sicurezza e con certezza del percorso a Donolder vero Regione Lombardia appunto aveva con la DGR 10 2344 del 12 settembre 2014 aveva preso tutta una serie di impegni tra cui quello di istituire il registro regionale dei donatori e di consegnare al Policlinico di Milano con il supporto di Lombardia informatica l'archivio informatico dei donatori noi al tempo avevamo stilato questa risoluzione chiedendo una serie di impegni a Regione Lombardia siamo consapevoli che molta acqua è passata sotto i ponti fortunatamente in questo senso e per questo propongo una modifica del testo della risoluzione nella parte che dà atto delle cose che sono state fatte per questo dopo il richiamata è giusto dare atto che è stato istituito fortunatamente a livello nazionale il registro nazionale delle cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita per cui la prima modifica io so che la esperienza e la tenuta della vice presidente Valmaggi le consentono di continuare la relazione anche in questo clima ma non penso sia riguardoso nei confronti suoi e del consiglio proseguire i lavori così quindi per cortesia ristabiliamo un clima di lavoro grazie 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 presidente per cui riprendendo la prima modifica prende atto sostanzialmente del fatto che a livello nazionale è stato istituito il registro nazionale delle cellule riproduttive a scopi di procreazione essendo stato istituito a livello nazionale sono sicure sicuramente la banca dati regionale come previsto tra l'altro dai documenti sanciti in conferenza Stato-Regioni sarà in contatto e comunicherà e reciperà i dati di tutte le banche dati regionali questa è la prima modifica essendo anche io consapevole che nel frattempo c'è un percorso che sta portando avanti il livello nazionale di inserimento di tutto il tema della sterilità all'interno dei livelli essenziali di assistenza cambia anche l'invita perché siamo consapevoli che nel frattempo Regione Lombardia molte cose che noi chiedevamo nella risoluzione nel frattempo le ha fatte è stato istituito il gruppo di lavoro è stato istituito l'archivio informatico e con un documento del gruppo di lavoro sono state appunto indicate tutte quelle modalità quelle regole che mettono in sicurezza il percorso e che anche definiscono quali sono le caratteristiche che devono avere i centri autorizzati per cui nella parte dispositiva si propone di cancellare sostanzialmente tutto quello che è previsto oggi nella parte dispositiva ed ad invitare sostanzialmente Regione Lombardia a formalizzare i contenuti della relazione proposta dal gruppo di lavoro regionale per l'attivazione nel monitoraggio e il controllo contenuti nelle indicazioni della delibera regionale stessa ecco al di fuori e al di là delle opinioni diverse che possono dividerci su questi temi l'approvazione di questa risoluzione sarebbe comunque credo un sostegno alle attività della Giunta e anche del Governo nazionale del procedere nella massima sicurezza cosa che è stata sempre richiesta da tutti grazie grazie il Vice Presidente Mantone chiede di intervenire subito ne ha facoltà poi apriremo la discussione generale sì intanto ringrazio la Consigliere il Vice Presidente Valmaggi per la modifica che è stata portata alla risoluzione infatti i tre impegni che sono stati che erano previsti come si sa Regione Lombardia li ha già in buona parte attivati in particolare per quanto riguarda i tempi brevissimi per l'archivio informatico voi sapete che siamo in attesa delle indicazioni di carattere nazionale visto che tale registro è stato istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità ma in attesa delle indicazioni Regione Lombardia ha già stabilito che il Policlinico di Milano abbia attivato al suo interno un gruppo multidisciplinare con il compito di formulare una proposta di attivazione di archivio determina del Policlinico di Milano del 7 ottobre del 2014 poi il secondo impegno per definire in modo chiaro i requisiti e la competenza di cui dovranno essere in possesso gli esperti anche qui il Direttore della Salute il Digi Salute del 1 dicembre 2014 ha richiamato i requisiti e le competenze di cui dovranno essere in possesso gli esperti del gruppo per il terzo impegno i tempi brevi regole certe alle quali i centri autorizzati dovranno attenersi per procedere alla diagnosi io direi se è possibile che venga aggiunto visto e considerato che questo primo documento che viene richiesto da parte del tavolo che si è riunito in Regione Lombardia noi abbiamo richiesto che venga sottoposto al vaglio della Commissione Sviluppo Sanità che funge su nostra richiesta come Comitato Consultivo per i Comitati Etici quindi se alla modifica che è stata prevista dal Vice Presidente Valmaggi si aggiungesse il termine necessario in termini necessari per chiarire previa nella consapevolezza che il documento sarà sottoposto al vaglio della Commissione Sviluppo Sanità sarebbe più completa la risoluzione Bene aperta la discussione generale poi la relatrice dirà se la richiesta all'assessore può essere accolta prego i colleghi che intengono intervenire di prenotarsi al momento non ci sono prenotazioni si è prenotato ora il Consigliere Rizzini a facoltà Grazie Presidente fondamentalmente solo per apprezzare il lavoro svolto dall'assessorato indipendentemente dal contenuto della risoluzione che certamente è servita da stimolo concordo con la richiesta di riformulazione e quindi di aggiornamento della problematica da parte della Presidente Valmaggi e quindi con questa riformulazione annuncio il voto favorevole da parte del gruppo della Lega Nord Grazie Grazie chiesto di intervenire il Consigliere Ambrosoli mia facoltà Grazie Signor Presidente solo per dire che anche i consiglieri del patto civico condividono le modifiche d'altro canto necessarie sulla base dei fatti intervenuti successivamente all'approvazione in consiglio in commissione finalmente si va verso una regolamentazione capace di risolvere molte delle criticità che anche in quest'Aula erano state evidenziate nel corso del dibattito relativo a una precedente mozione e si può fare in modo che anche in regione Lombardia in termini di sicurezza a 360 gradi si possa dar seguito a queste pratiche grazie grazie chiesto di intervenire il consigliere Fanetti a facoltà non chiedo la parola grazie presidente per effettivamente evidenziare il lavoro fatto dal gruppo e ringraziare anche per il lavoro della giunta e la vicepresidente Valmaggi e il gruppo di lavoro e per confermare il voto favorevole della lista Maroni con le riformulazioni proposte grazie grazie io non ho altre richieste di intervento in discussione generale pertanto chiedo alla relatrice se accoglie la proposta dell'assessore Mantovani grazie presidente sì accolgo la proposta dell'assessore Mantovani tra l'altro è anche per me almeno una novità la formalizzazione di questa commissione che era una richiesta di un altro lavoro che ha fatto la commissione sanità in relazione alla commissione di indagine su stamina per cui la modifica dovrebbe essere a formalizzare i contenuti della relazione prodotta dal gruppo di lavoro regionale per l'attuazione il monitoraggio e il controllo delle indicazioni contenute nella DGR 10 23 44 del 12 09 2014 una volta sottoposta la commissione sviluppo sanità comitato consultivo per i comitati etici per cui accolgo questa proposta e si sottolinea che insomma al di là delle differenze che permangono comunque regione Lombardia è tra le prime regioni che ha formalizzato questa azione bene quindi da una volta sottoposta in poi si aggiunge alla modifica alla seconda modifica già formalizzata come emendamento dalla consigliere Valmaggi non ci sono altre richieste di intervento chiedo se sono richieste di intervento e dichiarazioni di voto consigliere Fiasconaro ne ha facoltà grazie presidente per esprimere voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle per chiedere la votazione per appello nominale a nome mio della consigliere Macchi Violi Buffagni Carcano e Nanni grazie non ho altre richieste di intervento ricordo che dobbiamo procedere prima con la votazione dell'emendamento 1 presentato dalla vicepresidente Valmaggi con la modifica che è stata illustrata oralmente su richiesta del vicepresidente Mantovani e poi del testo della intera risoluzione una volta votato l'emendamento se non ci sono altre richieste di intervento e dichiarazioni di voto procediamo con le votazioni non ne vedo pertanto pongo in votazione l'emendamento 1 della vicepresidente Valmaggi è aperta la votazione 15 secondi per consentire a tutti di votare presenti 54 votanti 53 favorevoli 53 votiamo ora l'intera proposta di risoluzione numero 25 determinazione in ordine dell'attività di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è aperta la votazione presenti 52 votanti 51 favorevoli 51 il consiglio approva all'unanimità dei votanti bene colleghi prima di concludere abbiamo ancora gli ultimi due punti all'ordine del giorno proposta di nomina 43 e 44 sulle quali mi sembra di capire che ha chiesto di intervenire il presidente Romeo io poi devo fare ancora una comunicazione al consiglio prego niente ovviamente è una richiesta di rinvio come il mio solito fare questi interventi di fine consiglio anche per così come qualcuno mi suggerisce riempiamo un po' di più il consiglio di settimana prossima bene allora iscriveremo settimana prossima queste nomine prima di chiudere la seduta voglio ricordare a tutti i consiglieri che improvvisamente nel corso del periodo natalizio è venuto a mancare un collaboratore del consiglio Giuseppe Fulvio Mossi morto per ragioni improvvise il 28 dicembre era nato nel 62 e dall'81 era nei ruoli del consiglio regionale e negli ultimi anni per tanti anni è stato assegnato servizio logistica e sicurezza tra l'altro era molto amico di Noalli che è mancato lo stesso giorno di un anno prima credo di poter esprimere a nome di tutta l'aula le condoglianze più sentite alla famiglia che ho già provveduto a inviare con un messaggio a nome di tutti grazie la seduta è tolta grazie a tutti grazie a tutti